Ragazzi, buonasera. Questa introduzione è quella per la quale vi ho chiesto di essere qui. Certo, quell'artwork in work in progress meraviglioso, con scena completamente perduta, è qualcosa che vedrete concretizzarsi molto presto, sia a livello estetico che a livello narrativo, ma ho preso una decisione che riterrei poter definire incontrovertibile. Ho trovato la soluzione migliore, riflettendo in questi giorni sul famoso patto e i finali di Bloodborne che vorrei Sido vivesse. È vero, gli chiederò di giocare di puro gameplay, qualora decidessi di andare a parlare con Garman, che non è scontato, ma se lo farà, se, visto quel fuoco, intenderà comunque che arriveremo al finale, cosa che è reputo plausibile visto ciò che ha vissuto con Elden Ring, se lo farà, gli chiederò di fare il roleplay. Lui selezionerà, in nome di ciò che è Hiro adesso, di essere ucciso. E poi, ricaricando il salvataggio, arriveremo a poter fare i chalice, il DLC e tutto il resto. Ma ho cambiato idea. Ho cambiato idea. Voglio che possa vedere il finale del combattere Garman e sostituirlo, perdente, al gioco, al gioco, non gioco, della Moon Presence, prima del New Game Plus. Quindi ci sarà un finale, DLC, Chalice, e il secondo finale. Così che nel New Game Plus lui si chieda perché e come potrei mai cambiare le cose e avere anche l'arma finale extra che altrimenti sarebbe sprecata in una run che non potrebbe più tornare. Però, per quanto sia un peccato ovviamente il New Game Plus con la propria tomba, mancante in questo dettaglio, io voglio anche dirvi un'altra cosa. Molto presto arriverà l'extra e scoprirete quale sarà la trama. Di questa protagonista e della sua vittima. Poi hoi, sono passati tre minuti. Penso che Kiro comincerà a parlare, quindi non ve lo spoilerò ancora. Non ancora. Next time. Preparatevi. Preparatevi. È labile, Shenia. Credo di apprendere sempre di più, ma attraverso il nostro percorso tra labirinti, sogni, incubi, città piagate, belve che dilagano ovunque. E credo che l'insegnamento più grande sia proprio questo. Continuamente ci troviamo davanti a situazioni nelle quali l'ascensione è stata quasi raggiunta. Il successo è stato quasi ottenuto. Eppure il risultato è deludente. Provo pietà per questa creatura. Desiderava essere qualcosa di più di un essere umano. Un pensiero comprensibile, anche io, spesso, vorrei essere più forte, più abile, più veloce, ma soprattutto più dotto. La verità è l'arma più affilata alla quale possiamo fare affidamento. E questa verità, questo arcano, è contemporaneamente, sopra le nostre teste, è qualcosa di irraggiungibile. C'è da dire che i primi a fallire erano sempre stati davanti ai nostri occhi, quei chierici che avevano riposto nella fede le risposte, pregando, inginocchiandosi, bevendo dai ricettacoli e infine trasformandosi in qualcosa di ben diverso dai grandi esseri ai quali aspiravano. E forse questo cervello, oltre tutte le aminità di Yarghul, è la dimostrazione più grande di ciò che dico. Doveva essere qualcosa di più. Doveva essere grande. Doveva essere superiore. Invece è misero. chiedeva pietà e l'unica cosa che gli è rimasta da dire è l'ambizione che covava Luna. Avrebbe voluto raggiungerla attraverso Ninna Nanne, attraverso canti propiziatori che dovevano guidare la sua anima, il suo spirito, forse il suo corpo, in quel mare bianco che abbiamo visitato, mentre abbiamo fatto esalare a Rom l'ultimo respiro. Ma sai che ti dico? Che forse loro non erano abbastanza scenie. Certo, maestro Willem ci ha messo in guardia. Certo, ho condiviso con te i dubbi sulla possibilità che un sogno generi un incubo. Ma non è forse altrettanto vero che per ottenere qualcosa bisogna essere abbastanza abili nel farlo. E noi di abilità ne abbiamo da vendere. Persino Ludwig con la sua spada, imbracciando l'ultimo barlume di umanità, non ha potuto niente contro di noi. Quindi, Xenia, comincio a crederci. Forse l'evoluzione è possibile. Forse insieme possiamo prenderci la luna. Possiamo raggiungerla con dignità. 3, 2, 1, sigla. 1, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15,15, 16, 16, 16, 16, 18, lasse 6, 18, 18, 19, 16, 17, lại 5, 20, 17, 17, 21, 19, 20, 19, 20, 21, 21, 21,uyorsunRo! All the rain So the easy, busy spider Climber up the spout again Buonasera a tutti amici video spettatori E in particolar modo con un cerotto in faccia perché sono in postoperatorio Buonasera maestro Buonasera Buonasera, buonasera Come sta? Oh per stasera particolarmente carico Tanto che anticipo adesso già ai ragazzi Che ti ho fatto fare un backup Perché faremo una scelta verso una quest Che ti voglio mostrare più come trivia che non come contenuto di run Qui arriverò come maestro e ti dirò Qui c'è una chicca Prova questo Però poi ci sarà probabilmente un regresso Senti Dimmi Io credo che l'ultima live mi abbia fatto innamorare definitivamente di questo gioco Ti prego Continua Penso che l'ultimo episodio sia stato una somma di emozioni Ancora prima di scoperte Che riesco facilmente a paragonare a quello che ho vissuto insieme a te con Dark Souls Wow Penso che rimarrà per sempre nel mio cuore Nella mia mente il ricordo Di quell'ascensore che si è materializzato Dopo aver buttato il cervello nel pozzo nella profondità E è stato tutto molto elettrizzante Tutto molto sorprendente Perché era una matriosca di segreti La live dell'altra volta Lo era Però attenzione Segreti mai artificiali e artificiosi Secondo me fare segreti all'interno di un videogioco Crearli quindi durante lo sviluppo è una delle cose più difficili Perché si fa presto a generare quel tipo di segreto che deve essere risolto in community Ok? E tanti giochi fanno questo tipo di roba qui Al di fuori del mostra umanità Bravo, bravo Tipo inscription Bravissimo Tipo inscription Fino ad esagerare Nel senso che A quel punto È vero che da una parte l'aspetto ludico si sposta al di fuori del videogioco E quindi è bello perché le persone parlano Tutte quante insieme E realizzano che magari Per trial and error Facendo un milione di prove C'è la possibilità di ottenere qualcosa di inedito Un percorso nuovo Eccetera 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 Quindi non fraintendermi C'è un certo fascino Nel videogioco che Nasconde agli utenti il segreto Attraverso un procedimento così difficile Che diventa facile solamente perché siamo tanti a giocarci Certo Certo Il mio tipo di segreto preferito è chiaramente quello a portata di mano del giocatore Un minimo attento Perché quello che abbiamo fatto ieri Era Ieri anzi L'altro ieri Era unicamente essere attenti Io Peraltro stavo parlando con la chat Mentre risalivo dall'ascensore Con la coda dell'occhio Ho visto Una finestra Sì Peraltro ormai è diventato un automatismo Per via di come mi hai insegnato a giocare questi giochi Quindi sai bene che quando vedo un ascensore ci sono degli esperimenti che faccio Cioè ormai l'occhio è calamitato No? Ai dettagli circostanti quando si sale o si scende Però non si può di certo parlare di un segreto che richiede chissà quale tipo di esperimento e attenzione per essere trovato Eppure ci sono vari livelli diversi di segreti che si sono schiusi dinanzi ai nostri occhi Perché prima abbiamo trovato in realtà la chiave Tutto è partito da quella boss fight contro Mikolash Sì E la chiave della porta di ferro che ho trovato esplorando una zona che non era quella della boss fight O meglio sì ma era una parte in basso che non era neanche mai occupata dalla fuga del boss E quindi ho detto ah ok c'è una porta di ferro Saggio tu che non mi hai risposto quando io ti ho detto ah ma questa porta di ferro quindi l'abbiamo già trovata Tu sei stato in silenzio Ho detto boh vabbè ok allora andrò a vedere poi successivamente se mi sono perso qualcosa Poi c'è stato l'ascensore E ok il segreto Poi il segreto ti viene fatto annusare attraverso la difficoltà elevata del luogo in cui ti trovi Un sacco di cervelli canterini che inducevano alla follia Risolti solo attraverso peraltro Una cosa che io non faccio quasi mai nei souls Perdonami se lo chiamo souls No vabbè da figurati Ovvero giocare di role playing game Quindi usare strumenti che mi potenziano Ma non per qualcosa semplicemente non mi viene naturale Però lì mi sono reso conto che avevo bisogno di danno aggiuntivo Quindi piano piano prova sedativi cure eccetera eccetera Muori uno muori due muori cinque volte Alla sesta capisci come Spammavo R1 perché l'ho convinto di vincere E li fai fuori Lo dico a tutti ragazzi così non me lo chiedete più Ho un cerotto in faccia Non sto morendo Ho un cerotto perché ho fatto un'operazione a un neo E quindi per un po' di giorni dovrò averlo Perché deve rimanere per evitare infezioni coperto Ora che ha fatto la crosticina Quindi scusatemi avrò questo cerotto addosso per un po' di giorni Dicevo Oltre che come dice Eldur Un copri sborra Ma chiaramente quello è il segreto Quello che però è facilmente raggiungibile dal giocatore Dopodiché Quello che è successo è che Abbiamo raggiunto il pozzo Anzi abbiamo raggiunto la leva Abbiamo tirato la leva Il cervello è caduto E vedendo il pozzo dall'alto Si scorgeva uno strumento Che è un mezzo tipico con il quale Il Souls ti racconta l'esplorabilità di una zona C'è un oggetto quindi lo puoi prendere Quante volte si capisce che c'è una strada Che non è stata esplorata attraverso un oggetto Ho visto quel cannocchiale in lontananza Dici cazzo ma quello è un balcone Io non l'ho visto È successo proprio all'inizio dell'episodio Poeticamente lo scorso episodio Benché io non fossi cosciente dell'esistenza di un segreto Quindi vedo questo oggetto E dico ok in qualche modo ci dovrò arrivare Vedo anche che nella strada più avanti Non c'è alcun collegamento Anzi si ritorna alla strada originale E quindi nulla Decido di prendere il coraggio a due mani Mi butto Mi butto Non muoio E mi butto nuovamente Perché penso magari è un momento ROM 2 E se mi butto nel pozzo Arrivo al cervello Ora Starò diventando Un souls player Anzi un souls fan Per antonomasia Come tu hai detto l'altra volta Scherzosamente Quando ti ho commentato L'out of bounds Che a me sembra voluto Sì certo Certo Ti aggiungo allora quest'altra cosa Per me è voluto anche Che buttandoti non succede niente Perché Schippando la Volontà o meno dell'autore Il fatto che tu ti butti E non accada un cazzo È Propedeutico Per quello che succederà poco dopo Tu ti butti E io buttandomi E morendo Ho abbandonato Definitivamente L'idea Che quel grande essere Fosse in qualche modo Incontrabile Mi sono messo l'anima in pace E ho pensato Vabbè Lo butti giù Non ti spara più le lance nel culo E quindi è finita lì La storyline di questo livello Di questa parte del livello È Butta giù il cervello E così puoi esplorare Un po' più tranquillamente Le prossime aree Peccato L'avrei visto volentieri da vicino Ma vabbè Avevo però ancora un po' in cuore Il desiderio Di poterlo incontrare Ovviamente è ormai sepolto Però sai Appena hai Vissuto qualcosa Che avresti voluto fosse di più Ce l'hai ancora dentro Certo Torni indietro Stavo correndo Stavamo chiudendo la live Sì Me lo ricordo molto bene Stavamo chiudendo Io ti ho detto semplicemente Vabbè Vado avanti Non ero neanche cosciente Che avrei trovato quello E poi Qui bravi secondo me Loro con I giochi di colore In una stanza grigia Ti fanno spawnare Una luce verde E si vede molto bene Io stavo correndo E mi sono fermato E ho detto C'è un ascensore E ti ho chiesto Minchia non l'ho mai visto E tu mi hai rivelato No non c'era prima Sono sceso E lì ho trovato Il grande essere E ovviamente È arrivato un pugno Nel mio stomaco Perché qualcosa A cui avevo rinunciato Adesso era davanti a me E Ho cominciato a colpirlo Pensando che fosse una boss fight Ennesima sorpresa Non era una boss fight È un grande essere Sembra un grande essere Ma non reagisce E Non reagendo Ho cominciato a In generare in me Il desiderio di capire Se ci fosse un'altra opportunità Per Avere un segreto Nel segreto Del segreto Ho cominciato a fare esperimenti Ho provato subito In realtà Il stabilisci contatto Ma non è successo niente Dimenticando Che l'animazione Di quella gesture È molto lunga Sì Tu mi hai detto Di avere pazienza Io ho cominciato a fare mille cose Te lo ricorderai Sto gli armi Certo Memorabilmente Gli ho fatto vedere i tentacoli Gli ho fatto vedere tutto Poi Ho detto Vabbè allora aspetto Faccio Stabilisci contatto E aspetto Ma non ricordavo ancora Che l'animazione Fosse Fosse a due fasi Appena si è mosso Al primo frame Il personaggio Ho capito E ho avuto L'ultimo brivido Che meraviglia Ho detto Oddio È perché dovevo finire Di fare l'animazione Dovevo finire Dovevo fare le altre lancette Dell'orologio Dalla parte opposta Esatto E quando subito dopo Poi Ho droppato Luna Che peraltro Non è neanche una reward Di loro Chissà che cosa Ma Rende Speciale il momento Mi sono emozionato Perché mi sono sentito Ricompensato Nel mio Cercare Di trovare Il segreto Nel segreto Quindi Parto con questa intro Dicendoti che a livello Di gameplay Proprio di puro giocato La live scorsa È stata il mio momento Preferito di Bloodborne Ok Bellissimo proprio Un gioco che mi ha fatto Sentire Gratificato Nel mio essere Videogiocatore Non dico attento Perché sennò Sembra che gli altri Siano disattenti Se non trovano queste cose Ma Meticoloso Quasi ossessivamente Io Non mi so orientare Nei giochi E questo Inasprisce ulteriormente Questa roba Perché vado avanti Indietro Nelle stanze In continuazioni Mettendo in dubbio Il mio stesso operato E però lì Ho detto Cavolo La mia testardaggine È stata ricompensata Io ho trovato qualcosa Che volevo trovare Che è nascosto Non tanto agli occhi Degli altri giocatori Ma agli occhi Di coloro Che popolano Il mondo di Bloodborne Mi spiego È un segreto Internamente a Bloodborne E questo chiude La sezione gameplay Ma il momento Mio preferito Anzi il motivo Per il quale ti dico Che è la mia diretta preferita Il mio momento di gameplay Preferito Di Bloodborne È la sensazione Che ho provato Ho capito subito Di essere davanti A un grande essere E ho capito subito Di essere davanti A un fallimento Bello Sicuramente questo anche E soprattutto Per via del percorso Che stiamo facendo Tutti insieme In live Certo Ho l'accordo In 2KK Capito Magari per qualcuno di voi Ai tempi È stato Questo che cazzo è Mentre per me Era chiaramente Un grande essere Non poteva essere Qualcos'altro E ho trovato Estremamente malinconico Il fatto che Droppasse Luna Guarda ti posso dare Qualche insight Giunto a questo punto Di Bloodborne A questo specifico Appunto Centro dell'incubo Per lo meno Per mia esperienza Nessuno dubitava Che fosse un grande essere Ma Al contrario Era molto difficile Se non Implausibile Immaginare un fallimento Ecco Ok Mi torna Ci può stare Mentre per me È stato chiaro Fin da subito Già Cioè Anzi Era un grande essere Perché era un fallimento Esatto Sì E questo Qui non c'eravamo No Capito Non era un grande essere Perché era fatto Come un grande essere Era un grande essere Perché era sicuramente La storia di un fallimento Vivente Sì E Men che mai Fosse ovviamente I membri di Mensis Ecco Ecco Men che mai E il fatto che Abbia Droppato luna È Struggente Noi sappiamo Che le rune Sono le voci Dei grandi esseri Trascritte Disegnate All'arrival E sappiamo Che luna Rappresenta Probabilmente L'astro più importante Di questo gioco Che corrisponde Peraltro Al sangue Smunto Se nella forma Della luna pallida La luna È il simbolo Dell'ascensione È anche un po' Come dire Un sogno umano Che diventa distorto Nelle mani E nella mente Di Miyazaki L'uomo ha sognato Di andare sulla luna Ma qui andare sulla luna Ha un significato Completamente diverso Perché non è un viaggio Sul satellite Ma è Aspirare alla luna Per trascendere I limiti umani E terreni E finire nel cosmo Delle verità Peraltro Aggiunto A Mikolash Aggiunto a Mikolash È tutto Splendidamente Incastrato Cioè Guardate Guardate i peli Sul mio Braccio Ipercorrendo Ciò che ho vissuto Li ho dritti Perché penso Al fatto che Mikolash stesso Ti racconta Conti in quella Boss Fight Gimmick Che per me È la Boss Fight Gimmick Di From Software Cioè non ce n'è Un'altra più bella Di quella Una che vi si avvicina È il Drago Di Sekiro Eh sì Sì Va bene Ok Però Soulsborne Per me È la Boss Fight Gimmick Quindi Non vi posso Far vedere i peli Sulle palle Ragazzi Mi spiace Però Ve le faccio vedere Quando passiamo a Kick Va bene Appena Kick Mette la Stream Squad Passiamo di là E vi faccio vedere Anche i peli sulle palle Serenamente Dicevo Mikolash Con quella cantilena Che ti entra nel cervello Ti fa capire Proprio L'ossessione Che loro hanno Per l'ascensione Il fascino Che loro provano Verso un cosmo Che Ritengono essere Ricolmo di verità Loro sanno Che ascesi Capiranno tutto E Essendo che Tutti quanti I protagonisti Di questo gioco Fanno parte Di scuole Cosa c'è più Affascinante Della verità Ho capito Nella scorsa puntata Ennesimo brivido Che mi viene Dicendolo Che la cosa Che differenzia Bloodborne Dagli altri Souls E che i protagonisti Non vogliono Ascendere Per potere Vogliono Ascendere Per conoscenza Il fascino Dell'ascensione La trasformazione In grande essere Non avviene Per una brama Di potere Nessuno vuole diventare Grande essere Per sparare Raggi laser Dagli occhi Benché abbiamo visto Che sia tecnicamente Possibile Lo si vuole fare Per capire E capire Diventa L'ambizione Che brucia Queste persone Quindi tu arrivi Carico Di questo sentimento In fondo A quell'abisso E trovi Il vero risultato Ottenuto Un'ossessione Che li ha bruciati Fisicamente E mentalmente Questi mensissiani Ci hanno provato L'hanno desiderata L'ascensione Hanno desiderato La luna Eppure Quello che è arrivato È Un'amalgama fallimentare L'unica cosa Che ha da dirti È Luna Mentre ti guarda E probabilmente Ti dice Uccidimi Eh sì Non ce l'ho fatta La luna È quello che volevo La luna È quello che desideravo Ancora ora Forse l'unica cosa Che rimane di me È quell'ambizione Ma è più che un'ambizione È un sogno infranto Ti droppa Un sogno infranto Quella roba E cazzo è potente Quella scena E si può reagire In due modi A questa cosa Motivo Che mi ha spinto A fare L'intro Che hai sentito 20 minuti fa Ti aggiungo il dettaglio Che visto il tema Degli echi del sangue Diventare grandi esseri È anche un modo Per lasciare un'eredità Eterna Ai prossimi esseri umani È una strada Da seguire Capisci? Certo E infatti a me Ricorda tantissimo In una versione Iper iper distorta Malinconica Tragica E tremenda Il percorso dei Nomai Non dico altro Però esattamente Come nel percorso Con i Nomai Si eredita Attraverso anche Purtroppo la morte La conoscenza Qui si fa la stessa cosa Però in un contesto Ben più misero E Quindi Si può reagire In due modi A questa cosa Si può reagire Attraverso La paura Il timore Non la paura Intesa come il terrore Attenzione Il timore Willemiano Del tipo Questo è quello che succede Se ti avvicini Alla luna All'ascensione Non puoi Farcela Questo è il massimo Quindi Arrenditi Se non vuoi diventare Anche tu Un cervello Pieno di occhi Se anche tu Non vuoi diventare Semplicemente Un'amalgama Di cadaveri Di simili Che come te Sognavano la luna Basta Fermati Usiamo Il sangue E l'arcano Per ciò che è concesso In terra Impariamo due magie Due esplosioni stellari E fermiamoci qui La verità Non è per noi Oppure Pensi di essere superiore Oppure pensi Che loro non abbiano fatto abbastanza Capito abbastanza Cacciato abbastanza Pensi che in fondo Menzis ha fallito Perché non ha perseguito La strada giusta Magari il fallimento È stato anche dovuto Alla continua separazione Con altri Studenti Quindi Falliscono perché non sono più Con il coro Falliscono perché non sono più La chiesa della cura Falliscono perché non hanno seguito L'eredità Deontologica Di Birger Sì Esatto Quindi si può anche dire Che il fallimento Avvenga A causa Di Un metodo Sbagliato Però in qualche modo Pur sempre Di metodo Si tratta E questo metodo Forse noi invece Lo possiamo trovare Sarà Mike Che Il nostro percorso Mi porta a pensare Sempre Di aver capito Più degli altri E non parlo Delle persone Non parlo Dei ragazzi Che sono in questo momento No no Certo Certo Parlo Degli NPC Penso che attraverso La tua guida La vostra guida Hero abbia capito Più di loro Ma certamente Possa arrivare Ad ascendere davvero Del resto Rimane il dubbio Di German Rimane Il dubbio E il punto A questo punto Diventa più un Quindi Non è Pro Willem Hero Eh That's a good question Allora Ti risponderò Paraculicamente Ma credimi Non è una risposta Paraculo È quello che Hero Pensa davvero Hero Pensa che Willem Avesse ragione Perché Dato Quello Specifico Retaggio Di conoscenze Bisognava Rimanere Nei confini Del possibile Ma Willem Commentava Di temere Il sangue Dall'alto Di ciò Che conosceva Se io Conoscessi Più di Willem Magari Potrei Evitare Di temere Il sangue Mi spiego Sì 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 Forse Mi stai diventando Un po' Lorenz Ma sì È interessante Hai ragione Probabilmente È proprio quello Che Rido Perché è vero Tu non mi vedi Però io sto Ridendo Perché è vero Probabilmente Lorenz Altro brivido Avrà pensato Proprio questo Tradiamo Il maestro Willem Perché Secondo me Se rimaniamo Nei limiti Del timore Non conosceremo Mai abbastanza Per raggiungere Il vero obiettivo Willem si sbaglia Perché Si muove Nel recinto Di conoscenze Che abbiamo ora Nelle quali Conoscenze Effettivamente Mirare all'evoluzione Potrebbe essere rischioso Ma se io Invece Sapessi di più Sapessi come controllare Questo fenomeno Allora Forse un grande essere Potrei esserlo davvero E ancora una volta Non è Puntare alla fisicità Del grande essere Il mio obiettivo In quanto hero È Conoscere È sapere È avere tutte le verità Del mondo A portata di mano È vedere Con abbastanza Occhi L'universo Non ne ho abbastanza Ne posso ottenere di più Posso vedere la dimensione Che mi è sempre Stata celata E per me Intendo Come essere umano Beh guarda Adesso hai veramente Descritto Lorenz Perché ricordati questo Lorenz Non è Il Lo studente Pazzo Che dice No No Tu non capisci La vera umanità Fanculo L'adagio è suo L'adagio è di Mastro Lorenz Quindi Lui non ha mai dimenticato Di temere il sangue Ma Non si è fermato Per questo Per carità Manuel ha ragione Nel dire che Non bisogna farsi Un'opinione Solo positiva Di Willem Gli occhi Nelle ampolle Erano Roba sua Ma infatti Secondo me Dobbiamo distinguere Tra personaggio Buono Anche perché Non esiste In Bloodborne Mi spiace Ragazzi Ma meno male Bello È più realistico Il mondo di Bloodborne È un mondo complesso Nel quale I personaggi Possono contemporaneamente Fare azioni Positive E negative La bellezza Di un personaggio In una storia Sta nel fatto Che il personaggio Non è uno stereotipo Non è solo Cattivo O buono Perché non esistono Queste cose Nella vita reale Quindi Mi permettono di dire Che in Bloodborne Fortunatamente Non ci sono personaggi Solo buoni O solo cattivi Willem Willem Non è una luce Guida Che dovremmo Tutti quanti Seguire Però Willem È Quello Più cauto Questa è la verità Nella sua Follia Del cercare Di fare esperimenti Per ottenere Arcano Willem Si muove In confini limitati Willem Sa Di non dover Fare il passo Più lungo Della gamba Willem È Modesto Umile Lawrence No Lawrence Vuole di più Lawrence Si sente In diritto Ti direi Di avere di più E per avere di più Bisogna uccidere La vecchia scuola Ora Willem Non è morto Però comunque La scuola Si Birgenwert È stata superata Da progetti Ben più ambiziosi Ben più cruenti Con molti Meno scrupoli E se è vero Che non esiste Una distinzione Tra buono e cattivo Sempre netta È pur vero Che se mettiamo A paragone Le ampolle Piene di occhi E una via A caso Di Yarghul Comprendete Il mio punto di vista C'è una differenza C'è una sfumatura Diversa Non solo di follia Ma anche di Sfruttamento Delle masse Non voglio finire Come Mikolas Questo è poco Ma sicuro Mikolas È L'ombra Dell'ambizione È l'ambizione Che diventa Ossessione È l'ambizione Che diventa Ricerca Spasmodica Di un obiettivo Senza neanche Più avere Metodo Ma solo C'è 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 Diversi Diversi Da lui Pensavano Di essere Diversi Da lui Io Non Credo In realtà Sono tornati Continuamente Tutti Dell'idea Della fede In un modo O Nell'altro Ed è vero che In un certo qual modo Mensis deriva Da Ludwig Perché se Ludwig fonda La Chiesa E la Chiesa Poi diventa Coro e Mensis Mensis Deriva in Qualche modo Da Ludwig Però pensate un po' Ludwig venne schernito per il suo pensare che ci fosse una luce guida nella caccia, ma potremmo dire che chiunque in un certo senso ha trovato la sua guida ed è morto seguendola. E a noi chi ci guida? Noi nulla abbiamo una guida se non una, e finisco l'intro, c'è una sola entità che ci ha guidati, German. E' vero, German è la nostra guida, ci ha detto cosa fare, dove andare, ci ha fornito un sogno che ci sostiene, lui è la nostra luce, e dovremmo chiederci perché ci sta guidando, dove ci sta guidando, che cosa ottiene nel farlo. Spero ancora di assistere a un fallimento, oltre quello che abbiamo già osservato, spero di scoprire di più delle storie dei fallimenti, di grandi esseri che non sono ascesi, perché è il modo migliore che abbiamo per comprendere la natura degli stessi, del percorso che avrebbero dovuto seguire, che poi è fallito. Poeticamente mi verrebbe da dirti che se una parte di me pensa che German sia già asceso, un'altra parte potrebbe pensare che noi siamo parte del suo percorso di ascensione. Magari lui non ce l'ha ancora fatta e per qualche motivo ha bisogno di cacciatori che vivono nel sogno, che vengono sostenuti dal sogno e che cacciano per arrivare oltre. Chissà se anche lui conosce questo Cosm o Cos, come lo chiama Mikolas, c'è da dire che sarebbe una storia simile a Mikolas, Mikolas è in un incubo e attraverso l'incubo vorrebbe ascendere. Magari anche German vuole fare lo stesso e ancora non ce l'ha fatta, anche German è il signore del sogno del cacciatore ma ha bisogno di qualcos'altro. Una cosa è certa Mike, anzi non è vero, non è certa, ma comincio a pensarla, quindi preparati perché c'è il bivio molto forte tra Hiro e Francesco. Ok, non lo raggiungeremo mai secondo me, l'arcano, questo gioco non può finire bene, non ci credo, il nostro personaggio non avrà un lieto fine. Cavolo. Non penso, penso che il gioco ci abbia già detto qual è la verità, non si può. Ah, bella interpretazione. Ma per me Hiro qui, davanti a questo cervello, deve pensare l'opposto, o si fermerebbe qui e ti direbbe basta, torniamo a casa, cosa possiamo fare? La strada per divenire grandi esseri porta a quello, basta, non cerchiamolo questo sanguesmonto, chissà cosa diventeremo, chissà cosa genereremo, chissà quant'altra sofferenza andremo a impartire a chi ci circonda. Invece crederci a questo punto è anche un po' una salvaguardia. Devo crederci, devo pensare che loro non ce l'abbiano fatta e che io invece li supererò. È tutto molto bello da sentire, sì. E pensa che in tutto questo, è vero hai l'arma più 10, ma siamo ben lungi, tu hai tutto il DLC che ti è stato bloccato ancora da esplorare, chissà che accadrà adesso. Non solo, esatto, io non ho neanche l'impressione, te lo dico sinceramente, io non ho neanche l'impressione che il gioco base stia finendo. Appunto, appunto. E poi oh per carità, magari mi sbaglio stasera facciamo il finale, però non penso. Mi sento ancora lontano. Ripassiamo un attimo. Aiutami. Vai. Noi abbiamo da esplorare ancora questo livello perché ci siamo fermati all'ascensore del segreto. Quindi non sappiamo quanto in là andrà l'incubo di Mensis. Poi abbiamo tutto il DLC. Sì. Abbiamo dei chalice da fare. Tanti. Dobbiamo farli praticamente tutti. Praticamente sì. Perché ci manca il chalice di Iz, il chalice di Loran. Esatto. La fine di Ptumeru. Quindi ci manca ancora un botto. Abbiamo lasciato altre strade a Yharnam? No, però non puoi sapere cosa si trova e quanto si trova attraverso... Giusto. Birgenwert, ragazzi, bravi. Il piano superiore di Birgenwert, che però non mi aspetto che sia granché. Poi? Poi... Basta? Attualmente come strade, a parte quella principale, sembrerebbe basta. Salvo che appunto se ne aprano altre in base agli eventi che susseguiranno Mensis. Giusto. La clinica anche di Josefka, però vabbè, quello sembra un segreto più che un altro livello. Poi, oddio. Mi dovrei tirare un ceffone. Bloodborne mi insegna che non è così e che i segreti sono livelli in questo gioco. Però... Touché. Ora mi state mettendo il tarlo del... Nella clinica di Josefka c'è un intero altro segreto pari all'incubo di Mensis. Bello, eh? Una bella sensazione. E forse Kaynhurst, vero? Sappiamo che esiste questo luogo, ma non sappiamo se è esplorabile. Presumibilmente lo è. Per via del fatto che Alfred ci nomina un NPC intrappolato lì. Che sarebbe un po' una roba che rimane a bagnomaria, se no. Quindi potrebbe esserci anche Kaynhurst, effettivamente. Poi basta. Togli la chat che scrivono cose che non dovrebbero scrivere. Ok, non ho letto niente però di compromettente, raga. Almeno. Non penso. Tutto quello che vi ho detto finora non mi sembra compromettente. Forse è stato scritto qualcosa di assurdo. Vabbè. Andiamo? Io sono molto... Ah, ok, non ho letto. Ok, non ho letto. Meno male allora. Meno male che non ho letto. Ok, 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 fantastico. Beh. Mi chiedono... Sono molto propensi a farmi togliere la chat oggi. Devo? Ti dirò io quando. Ah, ok. Ah, il maestro sa, il maestro sa. Non volevo togliertela in introduzione, ma appunto oggi ci saranno momenti che voglio tu possa vivere in maniera molto molto profondamente intima. Quindi ci sarà un momento in cui effettivamente riuscire. Li saluterai per un po'. Very good. Parto. Coom or some say coom. Eccoci. Sì, sì, penso di sì. Allora, eccoci qua. Cos'è sta roba? Un libro. Di libri. Sono caduti per Ragdoll. Sono caduti da sopra. Sì. Pensate. Beh. Tornerei su. Yes. Or some say coom. Thumb. Ma. Scusa un secondo, eh. Ma certo, vai, vai, esplora, esplora. To your heart content come sempre. Orna su questo ascensore. È per permetterti di salire e scendere dando un senso fisico alle catene. Ok. Sì, sì, stavo controllando giusto appunto questo, perché ho visto che c'era un ascensore giù, ho detto magari non ho visto un ascensore, ma è semplicemente un contrappeso. Dobbiamo trovare il Ritual Blood 4, ragazze. Vediamo se questo funziona. No, no, lo so che ho quasi 130 euro. Stemma del cacciatore. Ho droppato uno stemma, non credo? Ho droppato uno stemma nuovo? No. No, 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 non l'hai fatto. Allora. Torniamo il prima possibile ad una lanternina, senza farci colpire da Cosm, qua, da Cosimo. Tra l'altro a questo punto mi aspetto che Cosm ci sia, che si incontri. E come però? È una bella domanda, però magari in un modo simile a Rom. Come suono, come boss, come Cosmo. Ti direi come boss addirittura. È una cosa che onestamente ha senso. D'altronde hai già combattuto grandi esseri e Mikolash te l'ha venduto proprio con l'hype culture. Già. Quindi avrebbe senso. Stava facendo il Geoff Kigley dei grandi esseri, gravissimo. Esatto. Allora, la lanterna dove stava? Ah, ma forse per lo sci... Ah, però aspetta, c'è la lanterna dopo. C'è la lanterna dopo, andando avanti di qua, no? Come sto a perdere, ovviamente, come mio solito. Però... Aspetta un attimo. Queste dove vanno? Datemi un secondo, eh, regà. No, no, esplora, esplora. Ok, questa va su. Ed è dove voglio andare, probabilmente. Qui ci sta... La... Lanterna. Sì, giusto, perché questo è il segreto. No, 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 ma resettati, resettati, resettati. È molto importante che tu sia sereno in quello che stai facendo, perché altrimenti è la fine. Chiaro. Allora, or some say, cause, quindi... Qua ci sta lo scensore. No, aspetta, questo non è utilizzabile. Quindi questa è un'altra cosa ancora. È uno short cuttolo che non ho utilizzato. E allora la lanterna è qua sotto. Dove cazzo sta sta lanterna? Io spawnavo qua, alla morte. La sento. Ah, giusto, era la lanterna dopo il ponte di Mikolash. Perfetto, perfetto. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Grant us eyes. Grant us eyes. Proverai a parlare con... L'automa. Nulla di nuovo. No, Goya, l'operazione era puramente estetica. Quindi ho tolto questo Neo perché era un Neo rosso sulla faccia, ma non era niente di spaventoso, ecco, fortunatamente. No, Arcano no, perché tanto ho realizzato che 40 non lo raggiungeremo mai. No, 40 è effettivamente difficile. E non sto trasformando così tanto la spada di Ludwig. Quindi direi che possiamo finalmente fare il 35 forzo e un vitalizio. E gli eyes sono grantati. Adesso andiamo a fare anche un'altra cosina. Vai, vai. E al più 10. Oh, ok. Io invece... Managlia più 10. Finché non raggiunge Yardam... Vediamo se abbiamo gemme del sangue. Voglio provare a droppare il sangue di Rituale 4 così sblocchiamo tutti i glifi del mondo prima di fare i calici normali. Proprio vet business anche se non perfect run. Eh sì, questa è maledetta. E qual è la maledizione? Aumenta i costi di energia. Del 2,7%. Oddio, doable, eh? Eh, infatti è poco. Cioè, riduzione continua a PV già mi fa più cagare, ma... 2%. Mi sembra veramente irrilevante. Cioè, facciamo un livello a resistenza e siamo dove prima. Cioè, siamo con la stessa percezione del gameplay del livello precedente. La metto. Allora... Ma questa è un'altra uguale? Madonna, che danno. Ah, no, 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 non è vero. Più 230. Questo era potenziale recupero SU, non mi ricordo. Eh, sarebbe il rally. Sarebbe quanta salute recuperi ben ando. Sì, cazzi. Molto meglio questa. Andiamo, andiamo. Full attacco con la mannaia. Dobbiamo essere full attacco. Basta maledizioni. Andiamo abbastanza. 2,63. Un'altra maledizione? No. Godo. 2,63. No, questa addirittura 2,66, ma con la maledizione me ne... No, no, no. Va bene. Vediamo se anche la spada della luna sacra può essere potenziabile. Questo 202 si ottiene con una semplice gemma. Benissimo. Qui 202, 207, ma è maledetta, quindi mi ciuccia le palle. Attacco versus belve, meno 9,3. Mi sa che me lo accollo perché la mannaia non ha questa maledizione e se non sbaglio mi hai raccontato che la mannaia ha già un bonus sulle belve, corretto? Sì. Quindi contro le belve in teoria non uso la spada. È giusto. C'è un bonus passivo. Accetto allora. Accetto la maledizione di buon grado. Qui mettiamo questa. Cosa mi aumentava? Gli affondi? È però è maledetta. No, no, no. Peraltro è vero, le belve non le becchiamo dopo un po', però... Non è garantito che non ci siano, soprattutto perché stiamo per andare nel DLC a un certo punto e dobbiamo pure fare i vari chalice, quindi non è una garanzia, ecco. Però, chi ci frega, quando vediamo una belva... Giusto, Luna, bravissimi. Quando vediamo una belva noi teliamo e mettiamo la mannaia invece della spada di Ludwig e abbiamo risolto. Ripara l'arma, giusto, corretto. Che ne pensi, Mike? Mi sta piacendo molto vederti, per la prima volta, nel momento giusto, tra l'altro, quando gli strumenti sono disponibili, una costruzione di build. Eh, sì, è vero, eh. Bloodborne... Forse sarebbe dovuto essere... L'ho tolta? No, non ne sono accorto, aspettate. No, non l'ho tolta. No, no, no. Ho messo l'una, ho messo la giusta l'una. Quella con il cazzetto. Dicevo, ehm... La spada la posso rinforzare, ci guardo. Doveva essere Elden Ring, probabilmente, il gioco a farmi fare questo step-up, invece è stato Bloodborne. Dio solo sa perché. È bellissimo, è l'antitesi di come funziona l'esperienza Source canonica. No, comunque, non si può. Bello. Ci mancano ancora sei pietre, perché le quattro sono bandite, ricordatevelo. Oddio, ma vale ancora il ban a quelle robe? Cioè, no, ma che? No, cioè quelle pietre che avevo preso ora le posso usare. Zero ban. Allora ce ne mancano due. Sì, effettivamente non ha più senso perché siamo già più dieci, che cazzo mi devo parlare. Esatto. Il cannone più che la pistola, forse avete ragione, posso provarci. Il cannone lo potenzierei perché potrebbe donarci delle gioie che purtroppo non ci ha donato proprio nel momento del bisogno. Più cinque, più sei. Potenzierei anche questa. E poi però andrei al cannone, più sette. Vabbè, possiamo farlo pure qui. Adesso però ne abbiamo meno per la spada. No, forse me ne terrei qui. Dico una cosa ai ragazzi e torno, eh? Come no? Allora ragazzi, voi non potete usare i codici dei glifi se non avete costruito prima un dungeon dello stesso tipo. Quindi quelli rotti, i false death, che sono proprio editati da smanettoni tramite Save Editor, si possono aprire a priori. Il campfg, eccetera, eccetera, eccetera. Ma gli altri, i maledetti, non potete aprirli. Devi crearne uno prima. Quindi i dungeon trovati e preparati dalla community in dieci anni, che nascondono i segreti anche più avanzati del gioco, anche se noi nelle precedenti partite li abbiamo già ottenuti, l'anello, le cose speciali, ve lo fate vedere tutte le rune finali, l'ho già fatto, ma molte altre cose non si possono raggiungere perché sono dentro canonici, non editati, calici segreti. Adesso li abbiamo sbloccati tutti perché ho fatto tutte e tre le rituali, tutti e tre le rituali, adesso è tutto nostro. The end. Ma fortunatamente ho tanti cazzetti di sangue denso. Vai, vai, usa, usa. E quindi perché non usarli per queste... A tal proposito anche io. Così ne abbiamo 140 e non devo pensare che le cure possano... Ma scusate un secondo, raga, io qui vi devo fare una domanda da Nabbo di Bloodborne. Vai. Quando si fece il cum chalice... Sì. Ci fu comunque una discussione sulle cure, ci sono, non ci sono, sarebbe stato meglio farmarle, eccetera, eccetera. Ma mi pare di vedere che poi alla fine, a parte per il momento iniziale, hai talmente tante occasioni per farmare echi o farmare cure, che non c'è mai un vero momento in cui hai difficoltà salvo appunto l'inizio. Non c'è l'unica preoccupazione che tu non avessi la sensazione della scarsità. che hai però avuto. C'è stata. Sì, ma c'è solo all'inizio. E poi è tornata adesso. Esatto, no, no, ma c'è solo all'inizio. Poi è un problema. Non lo diventa più, ma anzi non li farmi neanche più. Perché qualora tu non avessi il maestro che ti dice no, e da giocatore di un certo tipo quale siamo, o quali sono tanti altri, e avessi continuato a fare i cialis, ti assicuro che i echi per comprare le cure li trovavi. Certo, certo. Allora, direi che ci siamo, quindi possiamo tornare all'attico di Mergo centro. Però sicuramente la loro preoccupazione e premura è che tu non provassi, cioè non perdessi la sensazione di io qua non ci vado perché non ho cure. Chiaro. I canorvi e i corvani. Amici, Stormer, ho già mostrato in live il calice che vende tutti i calici. È una veteran run. Yes! I corvani. Madonna mia. Semperby. Ho un rapporto di amore e odio con la mannaia. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Siete in 4523 spettatori. Cosa sta per succedere? Niente. Non mi aspettavo questo numero oggi. Cosa sto per provare, Gesù Cristo? Non dovevi... Hai punti intuizione che ti fanno vedere i numeri che non ci sono. Ah, ok, quindi non ci sono. Ma no, 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 no. Ah, solo che è domenica, mi dicono in chat, va bene. Eh, no, sì, sì. Queste sono ombre. Sì! Eccoci! Già, bravo. Ecco, ci tenevo che tu... Sono le ombre di Yharnam queste, ovviamente in versione non boss. Però sono loro. Però sono loro. Che ci fanno qui? E loro, tra l'altro, da che parte stanno? Chi sono? E' importante notare che si sgretolano. Sono come delle evocazioni. Faremo bene, ragazzi. Lo vedo. Diventano polvere. Lo vedo. Può anche essere, ovviamente, una questione da incubo questa, però sì. Hai ragione. Hai ragione. Gesù Cristo, chi è? Chi è che spara fuoco? Ah, un'altra ombra. È giusto che c'era il caster anche nella boss. Esatto. Eh, vabbè, se non attacchi tu. Faccio io. Due nemici, dieci euro. Avete ragione. C'è un'inflazione qui a Manzis. Esatto. Ci sta un'altra scala. E io la prenderei. Ma non prima di trovare l'Helden Ring qua dietro. Godo, cioè davvero. Pezzo di pietra di sangue per due e si gode. Brutto posticino quello. Guardalo, guardalo. Che occhio lesto. Bravo, bravo. Intanto andiamo in basso. Alzo il lume di Francesco. Ma cosa serve questo in basso? Mi sento confuso. C'è una scala che va verso giù. Sì, sento un maiale anch'io, amici. E poi non c'è niente. Non c'è un'interazione, una roba. No, però hai visto. Qua ti aiuto direttamente. Voglio proprio che tu possa generare per un futuro ormai che diventerà il nostro presente l'occhio da source. Una ringhiera rotta. Esatto. Certo. Esatto. Questo è un percorso che ti serve dall'altra parte. Ancora il neonato. Molto vicino. C'è una lucertola lì in fondo, quindi il level design anche questo, buttandosi. E c'è pure un generico maiale, tra l'altro. Incredibile. È proprio un inco. Lì. Non ti è piaciuto il maiale posizionato qui, vero? Eh, ma. Un maiale di Yharnam, lì a caso. Beh, è un incubo, non deve avere senso. Guarda che belle palle, tra l'altro, sto maiale. Aspetta che le tasto un attimo. Ottime palle. Rotondità massima, raga. Sentite proprio. E qui si fa il butto, però. Perché qui c'è un altro segreto. Lucertolo. Un full lucertolo. Abbiamo praticamente quasi fatto la spada più nove. Mannaggia. Io lo farò vedere dopo. Il prossimo. Che cielo da sangue smunto. Parte 2. Un altro maiale? Vabbè, intanto c'è un'ombra. Ce ne sono due. Ho visto l'altra. Vediamo se riesco a fisciare. No, non si sposta da lì. È a motivo per non farlo. È un caster. Godo. Qui una delle poche volte in cui la pistola mi è servita per fare la pistola. Ma che c'è qua? Ah, ero bloccato dalla colonna. Porca puttana. Ragazzi, non ci ho capito niente. Io stavo steppando e non succedeva nulla. Ecco, i perri pieno. Non è un caster di Pokémon, ragazzi. Era un caster che faceva le spell. Un altro pezzo di pietra del sangue. Mai fu più giusta la decisione di non comprarli. Esatto. E' un saggetto. Allora, questo è un altro maiale, credo. Ora quelle ombre. Ho quattro. Spero di averne aggrate due, non tutte. Vieni qua, vieni qua. Attestiamo i tuoi limiti di aggro. Scelta sbagliata, amico mio. Scelta sbagliata. L'abbiamo effettivamente aggrata da sola. Ok, uno è rimasto a fare il cretino. Non credo proprio. Scelta sbagliata, amico mio. Scelta sbagliata, però ci sta, dai. Bene. It's velocizzin' time. Bravo. Porca troia. Ok. Il maial l'ho visto, ma andiamo prima a fare l'esecuzione dell'ultimo. Tizio ombra. Siccome questo percorso sembra più invitante, farò prima il retro maiale. Sono due, mi sa. Credo di averne visti due. Ok, mi è chiaro. Ma sono, ma sono con mille occhi questi maiali. Generico appunto. Era la gag. Ah, è perché lì lo vedevo di spalle. Eh, lo so, lo so. Non l'hai, non gli hai permesso di girarsi perché sei stato schillato. L'hai detto. Porcazzo. Ho questo talento di distruggermi le partite e quelle degli altri ogni volta che dico una cosa buona. Volevo fargli perdere. Ho fatto loro di sesso. Sono stato maialato. Quello praticamente si gira e ti fa cagare addosso perché ti aspetti che sia un normale maiale invece. Sono stato porcato. Va bene. Adesso andremo un po' meno cauti e più a maiali anche noi come i maiali di sopra. Ecco, e nel farlo moriremo. Perdendo quanti euro pochi? Secondo me tantissimi. Qui si fanno vera. Bella sta mossa in back dash, cazzo. Brava. Fenomenale quest'ombra. No, no, il tuo tonitro ste lo puoi mettere nel culo. Benissimo. Ah, il maiale è unico tra l'altro. Non risponde. Non è vero. È lì. Essendo che ci sono degli oggetti, là lo ammazzerò comunque. Dopodiché il butto. Ricordiamoci poi che dobbiamo fare anche quella strada classica, diciamo. Yes. Andiamo prima dall'amico Fritz Mili. Minchia qua, l'ho proprio scisato, mamma mia. Mi sento in colpa, mi sento. Io ho fatto il tiragir. Ora dobbiamo stare attenti perché non vogliamo che la situazione diventi... Aspetta un attimo, fammi divertire un po'. Ho preso nessuno. E ho fatto incazzare tutti. Vabbè. Tanto ho ripreso i soldi. Pensavo stesse per partire un attacco Mili. È partita una sbrettata. Pottiti. Basta, hai rotto il cazzo. Curo e riprendo Fiala. Va bene. Va bene. Bravo. No! Mi hai preso la palla, l'avevo preso. Aio, 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 aio. E riprendo Fialega. Mi sono fatto scopare. Bravo, ottima schivata, bro. Ok, è la stessa strada che vedevo da di là. Ho fatto un ricongiungo, ora controllo. Che vedevo un oggetto in lontananza. Va bene. No, sento l'altro porco. Ho la pistola a scarica. Non volevo fare questo. Oddio! Volevo fare questo. Mi ricuro, non si sa mai. Sti maiali fanno un... Gesù di danno. Ok. Morto. Bene. Non si può pistolare? Non si può pistolare il maiale. È per quello che te lo mettono nella galleria della Fogna all'inizio di Yharnam. Pre-Gascoin. È per dirti... Mi sono andato sereno qua. Non tutti i nemici possono. Gli ho detto, vabbè, mo lo scopo. Pum. Va bene. Va bene. Ah. Boh. Ci siamo mancati in un modo comico. Bravo. Non credo proprio. Non gli volevo fare perry. Lo volevo ammazzare. Bravo. Adesso tira le sue cazzate. Bravo. Volevo scoparlo e sono stato scopato. È la dura verità, Nish. È la dura verità. È la dura verità. Sempre difficile da accettare, ma non per questo. Falsa. Facciamo un po' così. Oddio, contro di loro forse è meglio la mannaia. Momento maiale con calma. Non si è fatto fare la gastroscopia. Aspetta, vabbè, no. Faccio dopo. Però sono curioso di capire se si ricongiunge qui, ma in teoria sì, perché risali. Maiale sì o no? No. No. Maiale no. Troppo rumore. Sì, giusto. In realtà è colonoscopia. Avete ragione perché parte dal culo. Telecamera. Bro, me lo targhetti? No, niente. Vabbè. Facciamo blind senza neanche vederlo. Benissimo. Hai droppato qualcosa? Ah, ombra sì, ombra sì. Bella, misteriosa, fascinosa. Sono qui, sono qui ragazzi. Sto pensando, sto pensando che... Sì, che potete ammazzarmi. L'arma finale di Shenia sarà comunque il Cos Parasite. Il Tonitrus non è l'arma di Shenia perché è troppo elegante. Quindi direi che per ora... Simpaticone. Bravo. No, la ruota di Logarius... Tanto le pietre in vet si possono farmare all'infinito. Eh, lo so, il braccio più dieci è il roleplay. Vedrete nell'episodio extra quando ce ne facciamo di pietra. E? E niente, frate. Guarda così, dai. Benissimo. Oh no, ce l'ha il maiale, Ieghi? O sono semplicemente a terra? Sì, ce l'ha il maiale, Ieghi, porca. Oh no! Vorrei aggrare solo uno, se possibile. No, ma mi conviene sempre mannaia qua. Guarda che bello con tutti gli occhietti. Vai, vai. Pottecelo. Mi ha preso. Mi curo perché con questi cosi non si sa mai. Bravo. Prevederci. Manca. 150 euro, raga, fa nove volte sto percorso. Ok, sangue freddo di un familiare, sangue freddo di un familiare. Fantastico. Eh, arrivederci. Ha fatto l'unico attacco punibilissimo di sti cosi. Ciao, ciao. A questo punto possiamo vedere se era l'effettivo ricongiungo che stavo immaginando. E la risposta è sì. Manca quell'oggettino. Easy hack, sì, sì, assolutamente. È level design quello. Forse no. Proseguiamo. È la sposa. È la sposa. Sta piangendo o sta ridendo? Credo stia piangendo. E lei ha di nuovo il ventre completamente disintegrato. Allora, adesso fermati un istante. Ti faccio una domanda e una richiesta. Visto che comunque hai esplorato bene, hai fatto tante cose e così via. Tu, con il giusto smanettio, per sentirti completamente sereno e safe, riesci a fare un altro backup o preferisci non toccare? Riesco a fare un altro backup. Allora, con tutta la calma del mondo, esci dalla partita in maniera non quick access. Cioè, non hard reset. Dai al gioco la possibilità di salvare. Ok. Vedete schermo nero, ma lo so, ok? Sì, sì. Faccio il backup e ci sono. Perfetto. Devo chiudere il gioco. Una volta uscito dalla partita. Poi, carica, scarica, dati salvati e facciamo carica. Esatto. Perfection. Sto nel lago Duria. Ed è proprio tanta. Qui siamo. Molto bene. Mentre la richiesta che ti faccia, che da questo momento in poi, non necessariamente fino alla fine della live, ma adesso via la chat per un po'. Allora, ciao ragazzi. Li rincontrerai più tardi. È stato bello. A parte che erai meno molto andi, ma almeno così possono parlare. Esatto. Li liberiamo, ma liberiamo anche te. Allora. Adesso... Posso avvicinarmi? Puoi avvicinarti. Adesso. Hai fatto un backup. Scegli tu quale delle due direzioni intraprendere. Puoi osservarla e non fare niente, oppure attaccarla. Oh, dicerla. Capite, ragazzi, che il maestro è un genio del male. Come avevo visto già nella cutscene di Rom. Capite? Come si occultano le cose da Vett. Quindi, credo che sia un simbolo del parto e che lei possa essere la madre di questo neonato che piange. Lo sentiamo sempre più vicino. Lei è rivolta verso questa struttura. Quindi, boh, l'immagine mi richiama una mamma che piange il suo bambino che le è stato... Non cambia niente se la ammazzi, pervi l'animazione. ...e deve essere ovviamente fuori strada. Lei sembra anche una sposa. È vestita da sposa. Quindi, la maternità è richiamata dal ventre squartato, benché non sia un'immagine proprio positiva. È, infatti. Ma quale lo è in Bloodborne. E poi abbiamo una veste che mi ricorda una sposa. Lei sembra un non morto, in realtà. La sua pelle è completamente bianca. Lei è pallida. Bravo, bravo. Ed è magrissima, quindi sembra un non morto, più che una persona poi ha le sclera completamente nere. Non le vedo neanche le pupille. Ed è anche ammanettata, ora che ci faccio caso. È ammanettata, ha la pelle pallida. Mi ricorda molto le solite ptumerate che abbiamo trovato nel labirinto. Eh! Uomini pallidi schiavizzati, in questo caso si parla di una donna, ma il concetto è simile, no? Bravo! È molto... È ptumerianina la situa. Già. Io non posso parlarle? No. Non penso sia un grande essere, quindi ha poco senso. Il fatto è che a differenza dell'altro grande essere, lei non lo è, intendo dire, del grande essere che abbiamo trovato prima, lei non mi guarda, quindi non credo che io possa fare qualcosa per lei, a livello di se fai una cosa, hai interazioni. Credo che le uniche due scelte siano fare qualcosa o non fare niente. Già. È abbastanza... Perché lei non ha proprio attenzione verso di me. Non c'è un prompt, non mi guarda, sta guardando la chiesa. O no, le gambe. Magrissime, tra l'altro. Sì. È vero, sono magrissime. Niente. Cosa fare? Quello che droppano le ombre di Yharnam... È questa la scelta di gameplay. È una runa. Di cui parlavi per il patto? No. No. Non lo è. Allora, in sincerità io la ucciderei, se si può uccidere, ma non perché le voglio male, ma perché che cazzo è? È un non morto completamente smunto e... A proposito di sangue smunto. Guarda, se... Lacrime. Non so... Cioè, oddio, non mi sta chiedendo di ammazzarla. Quindi è sempre il solito discorso del... Hai deciso tu che la vuoi ammazzare e che ti... Se la hai... Se la uccidi tu e non succede qualcosa di soddisfacente, faccio come se ti droppasse qualcosa di speciale. Ok. È possibile rimandare la scelta all'esplorazione di questo luogo per capire perché piange? Sì, ma hai fatto anche un backup non a caso. Quindi scegli tu, da questo momento in poi, senza influenze. E allora io ti direi che senza sapere niente, se fossi da solo in cameretta, rimanderei questo momento a più tardi. Ah, rimandalo 100%. Potrebbe sparire, ovviamente. Però per me è importante sapere prima perché piange, perché se fosse un motivo irrecuperabile, avrei ancora più a cuor leggero preso la scelta di ucciderla. Magari comprenderò perché sta piangendo. E... Se adesso vado via, tu non mi fai vedere cosa succede se l'ha uccido, giusto? No, ma ci sarà... ma non lo perdi, è garantito che tu lo vedrai. Perché c'è il backup. Esatto, non perdi nulla. Vado avanti. Anzi, prima guardo qui che cosa c'è. Una cassa. Impossibile prendere la fiala del sangue di Josefka. C'è una fiala del sangue di Josefka qui. Un'altra. E rimarrà qua. Eh sì. Forse questo è l'ascensore che vedevo... Prima. Perché sta andando in basso e noi siamo saliti. Qui mi sa che ci sono gli altri ascensori a sinistra, vero? Eh, ormai ti conosco, Miyazaki. Esatto. Triple shortcut. Questo vuol dire che siamo vicini a un boss. O almeno è verosimile. Perché questa zona adesso è raggiungibile da una lanterna in men che non si dica da quella in bassissimo. Doppio ascensore e sei qui praticamente. Già. E lei non è scomparsa, dai. Lei... Eh no. Ma io non penso che scompaia adesso. Potrebbe scomparire una volta in alto. Può essere anche questo. No, ragazzi, la fiala di Yosefka è un collegamento... Io ho già preso la mia scelta. Cosa hai fatto in blind run? No, non l'ho, ma non mi pare di verla assolutamente colpita in blind run. Ok. La fiala di Yosefka serve come collegamento... Yosefka falsa, cattiva. Ricordati che ci sono i segreti. E che quel punto iniziale del gioco nasconde qualcosa. Ma è un po' una porcheria. Mi sembra di sentire sto pianto sempre più vicino. Dico che mi sono fatto influenzare perché l'abbiamo sentito ovunque. Bello però, bello. Se fosse vero sarebbe spaventosissimo. Un secondo, ragazzi. No. Non mi sembra di vedere nulla. Bravo, bravo. Altri scoliasti. Oddio, è proprio forte il pianto. È frequente anche, eh. È vero. Oddio, è lì. Ho avuto un brivido. Sono felice che ti abbia avuto un brivido. Vuol dire che tutta questa veteran run è stata, fino ad ora, un successo incredibile. Questa... Composizione è assurda. Piazza circolare, la luna dietro che svetta completamente bianca. Enorme. È una carrozzina al centro, quindi, vabbè. Era abbastanza immaginabile, ma sì. Lei sta piangendo il bambino. È qui. Quindi, il bambino è stato portato nell'incubo di Mensis. Già. E lasciato in cima a una torre. Affinché forse un grande essere lo prendesse come tributo? Eh, che coso? Lo prendesse come tributo? Era proprio un rituale. Ci sono tanti morti qui. Perché? Bravo. Non c'è di qui dentro. Che hai notato questa cosa orrenda. Che cosa sei tu? Che cazzo sei tu? Valia di merdo. Oddio, che figo. C'è un carion con musica. Già. È una belva. È una belva molto complessa. È corvina e con tante braccia, ma pur sempre è una belva. Ha una collana. Non la riconosco. Delle falci tumeriane, oserei dire. Mi studia. È attento come nemico. Pur bestiale. Ma sa combattere. Colpisce duramente. Dovevo rispettarlo. Che cos'è? Sono di nuovo in un abisso. Oh mio Dio. Ma che cazzo è? Silent Hill. Mio Dio. Oddio. Ce n'è un'altra. Questa è la boss fight più bella che ho fatto finora. Mamma mia. Che cazzo di coreografia è sta roba? Non è più safe? Non so cosa fa, ma voglio essere veloce. Non male usare questo buff così. Non male usare questo buff così. Ho fallito il mio attacco. Cazzo. È forte. Sono quasi a metà cure e sono molto spaventato. È mia. Orca troia. Gira. Gira. E rieccoci nel mondo delle ombre. Dove però si espone tanto. Fatto in tempo a dirlo. Pessima scelta. Cazzo. Che bello attacco. Merda. È diventata aggressivissima. Mi sta innervosendo. È uno dei nemici più forti mai incontrati. Porca miseria. Sì. Ho quattro cure. Sì. E' finita Ho i brividi Mi 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 Frizza tutto Non è morta? Devo uccidere il bambino? Ho paura di un ultimo attacco adesso Non è morta La barra della vita è ancora lì Incubo ucciso Terzo E' un altro pezzo del cordone umbilicale E il bambino ha smesso di piangere E' un momento censura vero? Ho ucciso il bambino? No Non hai ucciso il bambino Ma ho ottenuto un cordone umbilicale Questo è come l'ha ottenuto German E ho ucciso qualcosa di nuovo Un incubo Incubo ucciso Quindi questa creatura È figlia dell'incubo La balia di Mergo Sì Nasce dall'incubo E attraverso l'uccisione Della balia ha ottenuto Un altro segmento Del cordone umbilicale Sono tre in totale Uno era all'officina Tu sei riuscito effettivamente A placare Il pianto del bambino Il pianto Ma non è che lo hai ucciso Lo hai aiutato Ad andare nell'aldilà Cioè lo hai fatto ascendere Ecco Lo hai liberato Perché dici questo? Il suono mostra Una certa forma di addormentamento Del bimbo Si rilassa E poi smette Non viene ucciso Non c'è censura E Diciamo che avremo modo Di approfondire Questa Che è una delle Sezioni più misteriose E complesse Di tutta l'opera Diciamo che il bambino Nell'incubo Non era né vivo né morto Era un altro prodotto Dell'incubo È una cosa bella Complicata Che affronteremo Fin anche nel new gameplay Plus Diciamo È una cosa molto tosta In ogni caso Ho preso un altro cordone umbilicale Lo vado a leggere Ma probabilmente sarà No Non è vero Non ha la stessa descrizione Questo cordone Ha permesso a Mensis Di essere ricevuto Da Mergo Ma ha portato Alla morte I loro cervelli Di essere ricevuto Da Mergo Me la leggi In giapponese Eh guarda Ho il documento Pronto da tempo Diciamo che Le risposte finali A questo momento Così catartico Di Bloodborne Le avrai Le avrai Ma saranno La fine Di un percorso Molto più lungo Di questo Ma ci saranno In giapponese dice Grande reliquia Conosciuta anche Con il soprannome Di cordone Dell'occhio Persino Tra i grandi esseri È posseduto Soltanto Dai loro figli E da questo Deriva il loro nome Di cordone umbilicale Tutti i grandi esseri Perdono i loro bambini Quindi li cercano Perciò Questo portò Ad un incontro Fortuito Con Mergo Che conferì Un cervello Fallimentare A Mensis Usandolo Otterrai L'illuminazione E si dice anche Che ti permetterà Di ottenere Occhi interni Ma tutti Sembrano aver dimenticato Cosa comporterebbe Il suo utilizzo Quindi Mergo È un grande essere È un grande essere Ed è il grande essere Che risponde Nell'incubo È il grande essere A cui fa riferimento Luna E attraverso il quale Sono riusciti a creare Il cervello di Mensis Esattamente Mergo Ha probabilmente Chiesto un figlio È Mergo Che ha benedetto Il ventre di una donna E quello Forse era Il figlio Che avrebbe voluto Io almeno La interpreto così Per ora Il figlio Che avrebbe voluto Prendere C'è anche una balia Che deve in qualche modo Proteggerlo Anche se Lo strappa Alla madre Che lo piange Là sotto Però tu Uccidi la balia Fai sparire il figlio Qui Dimmi se hai altro da dire Perché poi subentra Il maestro Ma finché hai Modo di parlare Parla Perché è un momento tuo Allora è chiaro Che quel bambino Sia quantomeno Figlio della donna Perché è lì su Che lo Cioè è là sotto Che lo piange Questo mi sembra Molto coerente Sì Noi sappiamo Che ogni volta Che la luna rossa Sorge in cielo Un grande essere Benevice un ventre Con un figlio E quella donna Ha il ventre Completamente aperto Qui c'è questa balia Di mergo Che quindi In realtà È la balia Del grande essere Mergo Che però Ne cura Il figlio Perché è Guardia di un neonato Non di un grande essere Sì Quindi Interpreto per questo motivo In quanto lei È la balia Di mergo Che lei è la balia Preposta da mergo Alla protezione Di quel neonato Perché Se non per Averlo come figlio Il figlio che cerca Mi piace Allora Qui C'è proprio un percorso Da fare Perché sei Invischiato Sei invischiato In un qualcosa Che ha lasciato In blind Noi Onestamente Nel modo più letterale Possibile Confusi Perché Ovviamente Mike L'altra possibilità È che mergo Sia il bambino E contemporaneamente Un grande essere Però è molto strana Come cosa Prego Allora Stiamo in una storia strana Adesso ti racconto A partire Dalla descrizione Del cordone Perché Nella community Giapponese Quindi proprio anche A casa loro Che di solito Hanno le idee Molto 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 Più chiare C'è una interpretazione A due estremi Di quella descrizione Di cui secondo me Comunque Secondo noi Una è molto Meno corretta Dell'altra Ci sono quindi Due scuole di pensiero Su come interpretare Il cordone La prima È quella Secondo la quale L'incontro fortuito Sia stato Tra mensis Emergo Che è quella Effettivamente Che tu hai cominciato A introdurre Ossia Il bambino Del sangue Che hanno usato Per fare tutto Questo rituale Di mensis E così via Ora È che quindi La conseguenza Di questo incontro Sia stata La creazione Del cervello Che hai trovato Eccetera 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 Questa cosa Ha un senso Ma rispetto a tutto Ciò che abbiamo vissuto In Bloodborne Ce l'ha meno Della prossima Ossia Quella che io ritengo Più concreta Fattuale E okamiana Diciamo È quella Secondo cui Anche questa Condivisa da un gruppo Di appassionati Giapponesi L'incontro fortuito Con Mergo Abbia coinvolto Questo essere La balia La balia di Mergo Anche dai trofei È un grande essere Ok Quindi anche questa creatura È però un grande essere Secondo me Creato in terra Diciamo 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 di sì Mi permetto Mi permetto di sorridere E dirti di sì Lasciandoti andare A questa frase Molto corretta Molto interessante Diciamo di sì E poi l'infante Quindi il bambino Usato da Mensis Perché ricordati I grandi esseri Cercano il loro figlio O un loro Surtro Certo Questa roba è Miazzachese al 100% Ok Quindi Il cordone Come hai indovinato Inizialmente Appartiene a Mergo E la nascita del cervello Deriverebbe dal fatto Che Mensis Ha fatto contatto Con la balia Non con Mergo Chiaro La balia Ha Ascoltato Questi esseri umani Che gli dicevano Grant has eyes No? E lei ha visto Ah ma c'è un bambino lì Ve li do Tranquilli Ecco i vostri occhi Sono d'accordo E il cervello di Mensis È diventato Quel mappazzone schifoso Certo Ovviamente È Tutto molto Più lineare Grazie anche a Mikolash Come boss E Era capricciante Ovviamente Perché Comporta il fatto Che Come abbiamo scoperto La scorsa live La follia Che il cervello Ci lancia addosso È causata Da tutti questi Membri di Mensis Che hanno ottenuto Qualcosa di corrotto E non Nei loro desideri Quindi è pura creatura di sofferenza A cui tu hai posto fine Adesso La storia Prende Una direzione molto ottruce Perché I grandi esseri Diventano anche maliziosi E rispettosi Figli di puttana Cioè nel senso Quello che ha fatto La balia È proprio brutto Cioè nel senso Ha accettato un patto Non curandosi Del fatto che Certamente sapeva Che l'essere inferiore umano Non poteva diventare qualcosa Di quel tipo O comunque non in quel modo Non unendosi In suoi occhi Ok Li ha presi per il culo Esatto Cioè è qualcosa Di malizioso Di dispettoso E lei ha ottenuto Un bambino Da proteggere Quindi La scuola di Mensis Come ricostruzione Più plausibile Ha preso questo Bambino del sangue Qualcosa Di cui tu hai letto Un po' in descrizione Qua e là Ma che ancora Non ti torna Come No Ha compiuto Sicuramente Allora Questo bambino Umano Aveva un cordone Umbelicale Da grande essere Ok Quindi deve esistere Un rito Per il quale Nasce un bambino Prendibile Da un grande essere Bravissimo Bravissimo Non può essere Un umano E basta Deve essere Un umano Nato Nato in un certo modo Preparato In un certo modo Affinché Faccia gola A un grande essere Il piano Dell'uomo Di Mensis In questo caso Ma di chiunque È semplice Cercare di dare In dono Te lo dico Da settimane Dare in dono Un bambino A un grande essere Per avere udienza Sì E però Il modo In cui questi bambini Vengono preparati E le donne Vengono preparate Noi non Non lo conosciamo Però Credo che coinvolga Rituali ptumeriani Perché la donna Era quasi imbalsamata Non te lo so spiegare Bravissimo Cioè io credo Che queste persone Vengano sottoposte A un processo Di trasformazione Che le porta A essere queste Non morte E poi Il bambino A sua volta Nascerà diverso E capace Di essere Per un grande essere Un potenziale figlio Sei riuscito Ad arrivare A una verità Alla Allora Escluso Il segreto Nascosto Dall'incubo Del cacciatore Sei arrivato Alla più Complessa E oscura Verità Della lora Di Bloodborne Perché questa è una cosa Che ci si è Lavorato tanto Per raggiungere Miyazaki A uno stronzo Perché è un modo Più complicato Di nasconderla In questa matassa Di informazioni E nomi Che fin anche All'ultimo Sono nuovi Perché la balia Mergo A Puzzo Pensava che fosse Il palazzo Perché Esce fuori Nulla Mentre Mergo È il bambino Mergo È il bambino Un bambino Che con tutta probabilità Esattamente come hai speculato E anzi Mi permetto finalmente Di dire Dedotto È Ptumeriano È Ptumeriano E Certo È per questo Che è nell'incubo Perché l'incubo È senza tempo Certo Quindi sono riusciti A prendere Sto bambino Ptumeriano Ti assicuro Che avrai altre risposte Te lo prometto Però perché Quindi Mergo Non è il nome Del grande essere Il grande essere Non si sa Che nome abbia Allora Diciamo che Mergo A modo suo È una cosa Molto vicina A un grande essere Perché Effettivamente È nato In un modo tale Da essere Un figlio Di un grande essere Potenziale Esatto Ma in generale Molte creature Chiamate grandi esseri Hanno dimostrato Interpretazioni Di caratteri Abbastanza maliziosi E crudeli La stessa luce Di Ludwig Quella fatina Non è che aveva Un'intenzione Di reale guida Ok Così come Le amigdala Non sono esattamente Entità positive Certo I grandi esseri Nascondono Nella storia di Bloodborne Qualcosa Che quando avrai Le ultime risposte Potrai confermare Molto più semplicemente Il perché Possano comportarsi male Ok Ok Ma In generale Il piano di Mansi Era proprio questo Mergo È Quindi Figlio Di un grande essere Il problema È che Non si sa di chi Non si sa di chi Non si sa come Si può speculare Si può indovinare Un'immagine Che però Non è confermabile Io ti direi Cosm Se devo Allora Tirare uno A caso Voglio un'udienza Da Cosm Mi piace Mi piace È carino Sarebbe A questo punto Molto antico Cosm Sì In ogni caso Mi è adesso Chiara Io ho la chat Ho la chat Che Io ancora l'ho nascosta Oh no Fai bene Devi ancora tenere l'ho nascosta Io ho la chat Che esplode Ovviamente Nella speculazione Che tanti abbiamo fatto Me compreso All'epoca Come Odin Odin Sembra poter essere Il Sembra poter essere Il padre Di Mergo Anche perché La balia È senza corpo Ok Tu la vedi Che ha soltanto All'interno Il capuccio Però in realtà Maybe Mi piace Ammetto che di gusto Infatti questo Io ho una certa passione Per i puzzle Che si completano Mi piace l'idea Che Odin Sia il padre Senza corpo Del figlio Senza corpo Diciamo Che in qualche modo Poi Si ricolleghi Alla grande tomba Presente A Yharnam Però Comunque Non posso Che dire Conferme Non ci sono Ok Non ci sono E quindi Non voglio darle Mi può piacere Come interpretazione Ma non ci sarà mai Qualcosa che Ci permette Di renderla Inconfutabile Non di meno Non è il figlio Della balia Ovviamente Perché la balia Lo ha ottenuto Cercando quello Che aveva già perso In ogni caso Ho realizzato Una cosa Sono le anime Da mettere Nel ricettacolo Questo Il finale Del gioco Arriverà Al terzo cordone Bravo Cioè O meglio Non ti dico Goccia Ma ti dico Smart Smart Questo è quello E' una cosa Mi piace tantissimo Che ho detto Io in blind Nel 2015 E quindi Questo significa Anche Che pure German Lorenz E gli altri amici Hanno fatto questa porcata Qui per ottenere questo Eccoci Bravo Oh Eccoci qua Al ragazzo Che impara tutto Assorbe E diventa Completamente Autonomo Esattamente Sì Hanno fatto le zozzerie Proprio in questo modo Ed è per questo Che non li usavo Non volevo usarli Lui non li userà C'è un altro bambino Che è nato Già allora E poi è morto O asceso Vedi tu Come vedi Per quanto Su questa ascensione Io ancora non sono con te Non nel senso Che non ti credo No Non puoi Che non ho Stanza cose Per capire Al momento A me sembra solo Che il bambino Sia morto Cioè che io L'abbia ucciso Non te lo fanno vedere Perché non puoi mettere In un gioco Sony E lui che prende la mannaia E sgozza il bambino Però nella mia testa Ho ammazzato anche il bambino Una volta che la balia È morta E mi sono preso Il suo cordone umbilicale Cioè da chiedersi Che cosa Fermava Il grande essere Da prenderlo Questo bambino Perché non l'ha preso Cosa stavo aspettando Beh Dipende anche A questo punto Bisogna aspettare un po' Non andiamo troppo a fondo Perché il gioco Non è finito Ma Diciamo che Come un grande essere Può pensare di aver preso Un figlio è qualcosa Che affronteremo A più Ancora due volte Ci saranno ancora due step In cui affronteremo Questo argomento Ma Tu considera Che bene o male Quando noi abbiamo Affrontato questa boss fight Quello che ci è rimasto Era un occhio basito E un Ah Boh Tre cose nuove D'accordo Quindi Perché effettivamente Riuscire a fare Tutta questa analisi Do post balia di mergo È un sogno È un sogno È molto bello Infatti Facciamo un ultimo Riassunto Finalmente Perché Non si è mai potuto Neanche avvicinare L'idea di farlo Fino ad ora Del piano di Mensis Ok Il piano di Mensis Ha gli albori Allora Fin dall'inizio Si sa Il piano di Mensis Era quello di richiamare La luna Usando un infante Ok Quindi La luna Abbiamo ormai confermato Ci siamo Non è un grandessere qualunque È il sangue smunto Ci sta Possiamo dirlo Con una certa freddezza È il sangue smunto Noi Siamo partiti Alla ricerca del sangue smunto Per fermare la caccia Fondamentalmente Perché tutto quello Che è nato Fin dagli albori della chiesa Era il tentativo Di raggiungere Quest'entità Con la comunione Yada 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 Che poi Han detto Raga basta No Le tombe chiuse Le bare sigillate Eccetera Quindi Tutti i puntini Si collegano In maniera Molto più Ordinata Di quanto qualunque Giocatore di Bloodborne Abbia mai sognato Di poter dire Ed è fantastico Anche grazie Retroattivamente Al conoscere Miyazaki Perché devi anche Conoscere un po' L'autore come scrive Altrimenti Effettivamente Nel bene Nel male Certe lacune Sono belle Bei crateri Bei crateri Però Sappiamo Un dettaglio Che viene Raccontato ogni tanto Ossia che il sangue smunto Ha un certo legame Con il fondatore Della chiesa della cura Che è Lawrence E di tutti I suoi affiliati Tra cui all'epoca German Certo Quindi Sono successe cose Il cordone Ombelicale Trovato nell'officina Come tutto questo Ed è tutto È un Cazzo ma hanno fatto Zozzeria Allora è quella La zozzeria che hanno fatto Hanno chiamato Un grande essere A quanto pare È quello che hanno fatto E hanno usato Un bambino Hanno usato qualcosa Che incuriosisse E interessasse Questo sangue smunto Ti direi che è alla base Del sogno A questo punto Prova un bambino Per farti dare il sogno In questo caso L'incubo Che infatti È stato ucciso L'incubo di Menzis Nasce Quando Questi signori Riescono a dare Questo bambino A provare A offrire Questo bambino Sull'altare Al Al grande essere Ma quindi Il sangue smunto È la luna O è un bambino Non posso risponderti Però Ti direi La luna Per ora Rimane la cosa Più probabile Però Devo Devo metterlo in conto Mettilo Mettilo assolutamente in conto Però Ci manca Un cordone umbilicale Dunque A menzis Compie però Il rituale Che attira Un altro Grande essere La balia La balia Per qualche ragione Non attira La luna Attira la balia Nonostante L'avvicinanza Della luna Il terzo cordone umbilicale Il terzo cordone umbilicale Ha accelerato l'incontro Con la pallida luna Nel caso di quello di German Non viene detto lo stesso Nel caso di quello di Mensis Però La balia Arriva E loro decidono Comunque di accordarsi Perché è un'occasione Tutti gli incontri Con i grandi esteri Sono considerati fortuiti Sono considerati Momenti di grande Occasione Come è accaduto La balia Prego prego No come è accaduto Ogni volta che si è parlato Di contatto E Gli scolari Di Mensis Concedono Mergo In cambio Degli occhi Della mente Che poi Era Quello che voleva Willem Senza l'elevazione Trovare un grande essere Che desse lui Conoscenza Senza costringersi A un'ascensione Del corpo O una Miserabile evoluzione Della specie Però Va tutto puttana Perché l'essere Che viene generato Dagli scolari di Mensis È il cervello È lì È quello Il grande momento Di scissione Post-disastro Perché anche Mensis Persino loro Si rendono conto Che il loro Operato Il loro patto È stato fatto Praticamente col diavolo Cioè Il grande essere Ha dato loro gli occhi Ma quello che è nato da loro Non era minimamente Ciò che si sperava fosse E lì E lì In contemporanea Di trama Il sangue smunto È da un'altra parte Certo Il sangue smunto È la luna rossa Cioè la luna Pallida La luna pallida Ecco sì La luna pallida Si avvicina Si avvicina A Yharnam E la luna Quando si avvicina A Yharnam Quando si alza Dall'orizzonte Poi risulta rossa Certo Qui Il coro Ha cominciato Invece a usare Rom Per nasconderla Per celarla E ancora non sappiamo perché Mancano delle informazioni Bloodborne non è finito E non solo Aspetta Il coro L'ha celata E Amensis Andava bene Decisamente sì Andava benissimo Per l'evocazione Amensis Non andava più bene L'esistenza Di Ebrietas Infatti Ti avrebbero aiutato A ucciderla Nel caso tu avessi evocato Lo scoleasta di Amensis Vero? Amensis Ti aiuta A uccidere Ebrietas Ok Allora Se avete tutti quanti 60 secondi di pazienza Devo medicarmi la ferita E arrivo Dai torna torna 60 secondi E poi Vai 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 Dalla sposa Arrivo Arrivo subito Perché lo devo fare Ogni tot ore Non me ne devo dimenticare Vai 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 Assolutamente Ragazzi Sta andando tutto la grande Sta andando tutto la grande È perfetto E non solo È per colpa Di Rom Che Micolasce è rimasto Interpolato Nell'incubo No no Io l'ho intortato Soltanto sul salvataggio È tutto vero Quello che abbiamo detto Ragazzi Ma ci saranno ancora Risposte importanti Eh no Non è canon Che sia Odon Non può essere canon A me piace Io ci metto la firma Con l'affetto Ma non è canon Non può essere canon Non può essere Poi ovviamente Questa non è Apocalipsis È comunque la VET Cioè Non è il documento Di risposte totali Di lore E tutto il resto Però È incorporeo come era Balia Ma la Balia Non è Odon All'interno della cultura Che usa Miyazaki Per le sue storie La mancanza di corpo Fa anche parte Di un'ascensione La Balia È un grande essere Molto importante Ma non è La risposta Di collegamento A Odon La Balia Però mi piace Ma infatti Mergo è il sacrificio Per il patto Non il vettore Del patto E la Balia Non è una proiezione Di Mergo La Balia È un grande essere Di per sé Il velo Il velo che genera Rom Crea interferenze Complete Nasconde Il rituale E impedisce A chi è già dentro Di esso Di uscire fuori È per quello Che impazziscono È per quello Che mettono I pezzi del cervello Sulle bambole E fanno gli esperimenti Con i cani Mica li facevano prima Mica erano Scienziati pazzi Perdono il senno Mergo è il figlio Di Yharnam Certo Certo è il figlio Di Yharnam Assolutamente Sì È per colpa Di Rom Che tutti Perdono i contatti Con Odon Rom ha fatto Un casino Ragazzi Rom è un grande essere Rom è Vacuo Rom è stupido È abusato Ma ragazzi Rom ha fatto Dei danni Permanenti Ai contatti Con i grandi esseri Quando questi esistevano Ha bloccato i contatti Esattamente Tutti i grandi esseri Un tempo Erano esseri umani Ne parleremo A tempo debito Bloodborne È un vero capolavoro Ma è molto complicato E oltretutto Non è Set in stone Ma molto più Di quanto non si pensi Ricordatevi Il ragno Di Birgenwerth Nasconde ogni rituale Il nostro signore Non si vede più La mia testa Non riesce a smettere Di tremare Purtroppo È incredibilmente Dilatata E contorta La storia Di Bloodborne In tanti pezzi Che si devono collegare Ma una volta collegati È molto più semplice Di quello che sembra Semplicemente Devi fare Puzzle Ma è per quello Che Yahar Ghul Si fa il grande essere Fatto in casa Eccomi risorto Ci sono Eccoti Eccoti Scusate Oh ma guarda Qui Eh purtroppo Devo farlo per forza Allora Aspetta che dico Un'ultima cosa ai ragazzi Ok Infatti Odon Odon Pur di Arrivare a tornare Con i contatti In gravida Arianna Ragazzi C'è tanto da dire In live non è facilissimo Ma È bellissimo Odon Eccoci 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 Allora Allora Io tornerei Indietro Anzi Prima Magari esploriamo Questa zona Si sa mai Che non ci sia Una roba Tipo Aspetta Devo ritogliere la chat Si Ok Dicevo non si sa mai Che non ci sia Una zona Nuova Nascosta Dietro l'angolo Esplora Esplora Goditele Sembrerebbe Di no Non noto Interazioni Zero Vado intanto Al sogno No Come no Vai prima Della donna Ok Non te lo posso Confermare Ma ho paura Che possa scomparire Se te ne vai Va bene E intanto Dico un'ultima cosa Ragazzi Torno da te D'accordo Ragazzi Ovviamente In live Con la fretta Non posso dirvi Proprio sempre tutto Ma I concetti base Ci sono stati Ok Ci sono stati E La gaffe Che stavo facendo Era un'aldiata Perché la luna rossa E anche la luna pallida Sono la stessa cosa Quindi Non l'ho Intortato Mi stavo Per dire Che la luna rossa E anche il sangue smulto Ma è andata benissimo I concetti ci sono Poi ne riparliamo E ricordatevi Che il cosmo Come nel tendringa È anche concreto Quindi la luna Voglio vedere cose È anche la luna È la luna È davvero la luna Abbassasse il capo Come per dire grazie E non stava piangendo più Ti ha ringraziato Esatto Per aver liberato il bambino In qualche modo Esatto E questo ti dimostra Che non l'hai ucciso Ovviamente Ti verrebbe anche ringraziato L'avessi ucciso magari Perché era Altrimenti condannato Eh sì infatti Però Però Non è stato ucciso Plausibilmente Proprio perché Non è Un bambino Di adesso Mettiamola così E non era Un bambino normale Mi è chiaro Poi in realtà Al discorso Ma l'hai ucciso Slash è morto La risposta è comunque Sni Cioè Si può interpretare Perché comunque È una morte È una scè Non è più qui È andato Si è lasciato andare È trasceso Però Still Beh ho fermato Il pianto straziante Del bambino Esatto Ancora la fiala Del sangue Di Josefka No raga La luna Non c'entra niente Con Odon Chissà che non abbia A che fare Con questo rito Il video Il modo in cui Viene preparato il sangue Nella clinic Usciti subito dopo Bloodborne In cui dicevano C'è la guerra Tra i grandi esseri Porca puttana Come la guerra Di Elden Ring Tra gli esterni Ma guarda un po' Guarda un po' Queste semplificazioni Escono perché sono fighe Ed è la risposta facile Per subito Ma bisogna smetterla Di rendere i video Usciti dopo una settimana Dalla fine di Bloodborne Come la canon Perché non è così È per quello che si fanno ricerche È per quello che si può andare a fondo Oh sì Poi speculare alla cieca subito È un gioco bellissimo E non c'è niente di male È una figata Ma allora qui non c'è più niente da fare Vabbè sì Alla fine avevo già visto Io sono arrivato da di qua Eh sì Sei stato bravissimo È vero Non c'è più niente Posso andare via Sì Ho visto tutte le strade Sì Credo Sì la luna e la Moon Presence Sono la stessa cosa Anche letteralmente No no Sei stato veramente Veramente bravo Eh allora vado Vado via Vado nel sogno Posso andarci? Ci sta Sì sì Adesso sì Io non credo ci sia niente Qua Non mi sembra di aver lasciato strada in sospeso Alla fine l'altra parte del maiale Era un ricongiungo Non noi Luigi Ma spesso Quando escono i video subito Creano Headcanon purtroppo Per semplificare È assolutamente vero In queste live Non ci sono Headcanon Manco per niente L'headcanon è Shiro e Enya E Hiro è Shenia Non le speculazioni dal giapponese Con la community giapponese Che conversa e comunica Queste sono Analisi E speculazioni Deduzioni e risposte Non Headcanon Ma che cazzo Ma che cazzo You have come Dawn will soon break This night and this dream will end German awaits you At the foot of the great tree Questo sogno finirà E qui capirà che al finale Presto Quindi la notte finirà presto Perché ha parlato dell'alba E German mi aspetta Ai piedi dell'albero In qualche modo Quindi l'uccisione Del bambino Ha Accelerato la notte Sta andando tutto a fuoco Non qui dentro ma Fuori senz'altro Come alla fine di ogni caccia Il fuoco purifica ogni cosa O almeno questo pensavano Perché sta Si sta distruggendo il sogno Il sogno in teoria Dovrebbe essere la parte più sicura Perché stanno andando a fuoco Verità assolute Ci mancherebbe Luigi Ma sono uno step molto importante Le traduzioni non sono libere Non è solo uno C'è un bel La morte del bambino Sta causando anche La fine del sogno E German mi aspetta Però l'automa Me l'ha detto tranquillamente Eh si Probabilmente German ha visto Che questa caccia Ha forse trovato qualcosa Che altri non hanno fatto E vorrà parlartene E voleva parlarne E me ne dando fuoco Al suo sogno O comunque All'officina Non credo si aspettasse Che saresti arrivato A uccidere la balia Può essere Allora Però Fermi German Mi sta aspettando Qui No Non è questo L'albero Evidentemente Mi ha detto Che mi sta aspettando Ai piedi di un albero O del grande albero Ha detto Ma io non so Dov'è questo grande albero Dico bene Non mi viene in mente Nessun grande albero Questa porta è stata No Questa porta è nuova È nuova Ok Lo vedo Beh German Dimmi Long time no see Madonna Ma cos'è Segiro E hanno di fiori Sì Tra l'altro Tra l'altro È difficile È difficile Che tutto lo possa ricordare Ma sono qui per questo In Elden Ring Nella Più grande battaglia Che l'Hendel Abbiamo mai affrontato Ti spiegai un dettaglio Perché al centro Dei crateri Causati da quello scontro Esatto C'erano questi Bravissimo Bravo Te lo ricordi sì Questo è un terreno di morte Infatti guarda le lapidi Guarda quante sono Lo vedo Questo è un terreno Di grande rispetto I fiori non sono rossi Non sono sporchi di sangue No È armoniosa Questa visione Eccolo Dimmi Lui è contento Allora Fermati Ma che cazzo German Con voce calma Per la prima volta In realtà ti ha mostrato Una forma di Timore comunque Ha definito questo incubo Questo sogno terribile Terribile Quindi strano Nel senso Non sembrerebbe suo Sembrerebbe errata Da questa frase Esatto E Dinanzi A tutto ciò A ogni cosa Che Hiro ha Vissuto fino ad ora Il patto Che ti ho chiesto È questo È questo Io qui Non voglio Anzi ti ordino Di non fare il giocatore Non devi essere curioso Devo offrire la mia vita? No Devi fare ciò che farebbe Hiro Sei Hiro Dopo quello che ha vissuto E con le introduzioni che ho sentito Effettivamente qui non ci vuole stare E rifiuterebbe Chiaramente Lui rifiuterebbe? Hiro? Devi dirmelo tu Io ho interpretato Nelle tue partite Che forse nel sogno Non ci vuole davvero stare Ma se rifiuterebbe Se rifiutasse Se Hiro rifiutasse No Hiro vuole il suo sogno Non questo Devi agire Unicamente di roleplay Qui non voglio Il giocatore curioso Ti faccio un esempio Se Hiro Volesse svegliarsi dall'incubo E invece Sido volesse Oh ma se rifiuto Chissà che succede Ti obbligherei Ad andare Di roleplay Se così non è Adesso non è You do you È you do Hiro Ok? Ho capito Questo è quello che ti chiedo Che Hiro sia Hiro Nient'altro Nient'altro Allora Per me Hiro Rifiuterebbe Per il semplice motivo Che Hiro non sa ancora la verità Offrire La propria vita E quindi Abbandonare il sogno Allora Allora Fermo Parla Offrendo la mia vita Io vado via dal sogno Corretto? Se tu offri la tua vita Tu vai via dal sogno Mi sveglierò Mi ha detto Dimenticando tutto questo Giusto? Sì Ecco Io non credo Che accetterebbe E certo Capisco che Hiro non voglia stare in questo sogno E ha assolutamente senso Ma se dimentica tutto Come farà a ricordare Tutto il percorso Verso l'ascensione Che vorrebbe raggiungere La creazione di un sogno Eccetera 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 Mi spiego Ti spieghi Sì Sì La domanda Che può forse è Se Quello che ricorda da qui Può essergli d'aiuto o meno Se Non rischia Magari Qualcosa invece Lo distorca Lo rovini Lo spaventi O Lo renda lontano Da questo obiettivo Ma Se così non è Rifiutare il roleplay E se rifutare il roleplay Devi fare quello Quello che io non voglio qua È il giocatore Il giocatore deve essere Soppresso In questa scelta È il patto che ti ho chiesto Quindi Quindi Allora Prima di prendere una scelta Vorrei parlarti di quello Che ha detto German German ha detto Che ci siamo Che sono stato bravo German è contento Di ogni singola cosa Che ho fatto in realtà È molto contento Esatto è contento Gli andava bene Che io Non lo forzerò mai Ragazzi O meglio Che lo facessi ascendere Quel che è successo Ok Però adesso basta German ci vuole fuori Dalle palle O forse vuole salvarti Sta andando tutto a fuoco Potrebbe essere Non mi ha dato questa sensazione Ok Mi ha dato Mi ha dato la sensazione Del Il tuo compito è finito Adesso basta Se paracula Lasciatelo paraculare Non ho tenuto di conto Che potessi essere benigno Forse perché ormai Mi sono messo in testa Che non lo è Non lo forzerò Non si rovina niente Però voglio che lui sia lui Ti farò salva la vita Ti risveglierai E non ricorderai niente Sì diciamo che Lui ti dice Lascia che io ti assist Che è un po' Un modo di dire Guarda Ti uccido io Prima che ti ammazzi tu Sì sì Perché Evidentemente È Penso molto possibile Dedurre Che queste tombe intorno Eh sì certo Siano altri cacciatori Che sono morti Nello stesso modo Però questo significa Che la caccia Si conclude sempre Con German Che ti uccide German ti uccide Lui non vuole rifiutare Ragazzi Non lo sto forzando Lo forzerai a rifiutare Se volessi fare Quello che voglio io Ma non si può Luce del sole Non ricorderai niente Lui dice questo Promette una vita Dopo questa cosa No Lui ti promette La salvezza Sì Io qua appunto Ho solo Voglio togliere La preoccupazione Che dinanzi A una scelta Così importante Per Hero Non ci sia Il giocatore Che dice Ma Se rifiuto Che succede Cioè voglio che la scelta Sia in 1 A O in 1 B Quella del personaggio Fino alla fine Perché è un canon Importantissimo Importantissimo L'automano lo disse Queste lapidi Marcano ogni cacciatore Che è stato qui Dall'alba dei tempi Ovviamente Sottintendo che Non perdi nulla È una veteran run Ma la prima Ma la prima La prima Deve essere quella vera Senza la paura Di perdere qualcosa Se la offri Senza paura Che si rompa qualcosa Se rifiuti Voglio che tu sia Kiro Zero Saido stavolta Zero Non chiedo altro Il patto è questo Se offro la mia vita Hero Torna una vita normale E basta Plausibile Salvo che venga Ingaggiato la scena Di nuovo Però sì Ti liberi Da questo incubo Questo è vero Magari le tue azioni Hanno effettivamente Cambiato qualcosa Potrebbe Potrebbero essere cambiate Le Future Generazioni di cacciatori Potrebbe essere finita la caccia Però effettivamente Potresti non saperlo Ti liberi da qualcosa Che Ti ha Oppresso E soppresso Ma è vero Torni nella vita normale Questo è assolutamente Inconfutabile Ammesso che sia vero Quello che dice German Sì Ti stai fidando di lui Non sembra un bugiardo Ma ti stai fidando di lui E comunque Che ti puzzasse L'hai sempre detto Tuttavia Interpreta la sua voce Interpreta le sue parole Interpreta Hero Qui Siamo dinanzi a qualcosa Che appunto Non succedeva da Dark Souls 1 Io qui non ti sto dicendo Se fai questo Potresti sbloccare quest'altro Poi ti faccio vedere Quell'altra cosa Successe in Dark Souls 2 Dark Souls 3 Me lo ricordo Qui Io voglio Che tu riviva quel momento È totalmente tuo Non perderai nulla Ma voglio Che sia scritto per sempre Cosa fa Hero qui Non il curiosone Completista Scelta più difficile Che ho preso Dentro questo gioco Perché entrambe le Non potevo chiedere di meglio Hanno senso per Hero Offrire la propria vita Ha senso Perché Hero viene liberato Da questo loop di caccia E quindi Basta Non si soffre più E si dà in qualche modo Ragione a quella sensazione Di inarrivabilità Dell'ascensione Di tutte le cose Che concernono i grandi esseri Che hanno portato La follia tante Non è possibile fare meglio E quindi Basta Però proprio Hero In questa intro Ha detto che Reagendo a quel grande essere Vorrebbe provare Una strada alternativa E questa strada È possibile Solo nel sogno Che è vero È un incubo Ma è anche uno strumento Per migliorare Per diventare più forti Per visitare Infatti Una cosa che ti posso confermare È che questa Tua introduzione Questa nuova Introduzione di Hero Ha molto Mosso Le carte sul tavolo Di questo personaggio Perché Ha aggiunto Un fattore Di evoluzione mentale O di anche ambizione Che prima non aveva Per niente Quindi Tu adesso Devi pensare In sua vece In suo corpo e spirito Mente e cuore Se quel principio Di ambizione È qualcosa Che infine lo spaventa Gli fa pensare A chi ha fallito Prima di lui E che è la sua Consapevolezza ottenuta Dalla veteran run Come dicevi in intro Anche tu Gli fa arrivare Il messaggio Che comunque Non si può traffare E quindi forse La soluzione migliore È la saggezza Di accettare Un consiglio come quello Oppure Se invece Quell'ambizione Infine Coglie anche Hero È tutto È tutto nelle tue mani Non perderai nulla Se non La tua prima volta Il giocatore Non deve essere coinvolto Zero Qui zero È molto importante È il patto che ti ho chiesto Zero giocatore Zero giocatore Iro ha Sempre seguito I ordini nella sua vita È tutto quello che ha fatto Si è lasciato guidare Da tantissime persone E questo perché L'infanzia che ha avuto Come ricorderai È Già Traumatica e tragica Il suo sogno È stato quello di Generare un luogo Sicuro Per persone come lui Attraverso un percorso Magari di comprensione Di questa luna Dei sogni E di ascensione Poi si è reso conto Che la cosa Era molto difficile Infine ha Pensato Che invece lui Potesse essere Predestinato a qualcosa Di più grande E Che potesse superare Coloro che li avevano Preceduti Intendo sia Ascenia che Lui Mai i vizi Sono duri a morire E Iro Finisce per fidarsi Di quest'uomo Perché è quello Che ha sempre fatto Offre la sua vita Farewell Markine Hunter Fear the blood Io ho dato Tutta la libertà Di non farlo E l'ha fatto comunque È incredibile Il momento più bello Delle vet Porca puttana È incredibile Era contro Ogni sua sensazione Da quello che gli dicevo E l'ha fatto comunque È un sogno Fear the old blood È una falce Si è alzato in piedi Comunque Sì Sì Si è alzato in piedi L'hai notato Ci siamo Aveva ragione Non ci ha Detto una minchiata Siamo davvero vivi Era onesto Era onesto E ha detto Di avere paura Del sangue Infine Strano da dire Se hai tradito Willem Conosceva l'adagio Oddio la luce Eh Sido giocatore Voleva rifiutare Ovviamente Ovvio Ovvio che il Sido Ovvio che il giocatore Voleva rifiutare Ma infatti Tra un paio di live Rifiuterà Come ho detto in introduzione Non ci può essere luce nel gioco Non aspetteremo A questo punto Questo è un finale precoce Qualora tu non Eh certo Il patto era quello Escludi il giocatore Non voglia rimanere lì dentro A scoprire fino in fondo Quello che sta succedendo E' la tua tomba Certo E infatti Eh già Ovviamente questo è il finale Che E' giusto per Iro Ma non per me Esatto Ma infatti E' un finale Che fanno in pochissime Il giocatore E' curioso Il giocatore Certo Rifiuterà sempre Il consiglio Dell'NPC Che gli dice Di lasciar perdere Ovvio E quindi Questo è un finale Paradossalmente Più nascosto Dell'altro E' vero Anche perché In Parlandoci Da videogiocatori In questo finale Il boss finale È La balia Si Si Che non è assolutamente Il boss finale Infatti Infatti A un certo punto Ho pensato Allora Quando è partita L'introduzione di oggi Ho detto Merda Neanche Iro Accetterà allora Va bene Vediamo che succede E E invece poi Ha ceduto al suo carattere Ed è una cosa Che comunque ho apprezzato molto Ora La proposta che ti faccio È caricare il salvataggio Quello Quello non è una proposta Quello Non la ritengo neanche una proposta Eh Dobbiamo ancora fare un sacco di cose È scontato E non Questo non è il vero finale del gioco Eh Uno dei Ma non Dai Non quello che voglio Ma Quello che Però La proposta che ti faccio è Il rifiutare Lo farai Solo dopo il DLC Bravissimo Ovviamente Bravissimo No 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 Lo davo per scontato Ah e Per Ti do un piccolo dettaglio Per il Canon Della nostra Veteran Run Tenderei Verso Verso il tuo istinto iniziale Anche di un iro Colto alla sprovvista In un rifiuto Eh Perché dopo il DLC Secondo me Potrebbe Però sono felicissimo Di averti fatto vivere un momento Ora giocatore Personaggio Rollplay Allora Oh la La mia nanna Sì Vorrei Rendere tutto questo canonico Aha vai Pertanto Perché Che non In qualche modo Dire Che questo che è avvenuto ora È un sogno Quindi Questo è nelle tue mani In questo caso Il maestro Gestirà il canon del tuo personaggio Adattandovi il suo Quindi Devi scegliere tu Devi scegliere tu Per me Questo Momento Post balia Viene vissuto in un sogno Viene vissuto in un sogno E quindi Non è accaduto davvero Potrebbe succedere che iro nuovamente offrirà la sua vita oppure no Ma iro ha solo visto una possibilità In questo momento Molto bene Non altro Che ne dici Magnifico Magnifico Iro sta adesso che c'è modo Di fuggire da tutto questo Il fatto è che appunto Il finale Di Bloodborne È ancora acerbo In From Software Quindi ti butta nel New Game Plus Per quello ti ho fatto fare il backup Ah Non cambia niente Se ammazzi la regina Era una trappola Per farti fare un backup Senza farti capire Che era il finale Ah Che bravo Non ci avevo pensato Pensavo che fosse davvero una roba Del tipo La regina Fa robe E infatti E infatti Il drop Che ti farò ottenere Adesso che l'ammazzi È una lettura Della runa Che droppano le ombre di Yharnam Ok Leggila Allora ricarico Ricarica No non è proprio Un'aldiata ragazzi Nella runa c'è scritto Che è la regina Nella runa L'altro lo vedremo Tra un mese e mezzo Nella runa c'è scritto Che è la regina Non ho Non ho fatto Non ho fatto la No dai Lì fa due Che è finito così Due Che abbiamo fatto finire presto All'inizio Non succede niente Come? C'è Uno Dei Certo che l'ha presa la runa Ma che cazzo Finali precoci In Dark Souls 2 O ricordo di aver già fatto Questa cosa con te Di aver finito presto il gioco E poi averlo finito Molto più tardi O non è mai successo E mi sto confondendo Allora In Dark Souls 2 È successo Sì Eh infatti Ti dicevo In Dark Souls 2 Sì sì In Dark Souls 2 È successo Sì sì Assolutamente Allora Carica Scarica Non mi devo confondere Scarica Fai tutto Comunque Comunque Come? Mi sa che devo rifare la boss Sì Quello sì Quello sì Godo Che figata ragazzi Che bello Che bello è stato Che bello è stato E tra l'altro Come ho detto in intro Non voglio fargli fare Il mio Game Plus E senza l'altro finale Voglio che li abbia entrambe Così che la sua scelta Sia a 360 gradi Ma Mi conviene Rifarla adesso? Ehm No 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 In realtà Perché se la faccio Adesso poi Ho per tutto il tempo German Lee No 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 Ma in realtà Intendo dire Dovrei rifarla Dovrai rifarla Ma Ti avrei guidato Non farla adesso Devi lasciare Anzi è molto È molto importante Che tu non metta a fuoco Il sogno Ok Che io non Guardi di nuovo Quel sogno bruciare Esatto No no È un must Lì perdi Lì perdi contenuti Eh sì Te lo garantisco Ma adesso Non c'è più Una sola barriera La uccido? Uccidila Madonna Semplicemente scompare È una proiezione Non ha droppato niente Non ha droppato niente Ma Leggi La runa Che ti lasciarono Le ombre di Yharnam Eh Qual era? Allora La runa che ti lascia Le ombre di Yharnam Vediamo È Fascino sanguigno Fascino sanguigno? Eccola qua Un occhio Questa runa Trova il favore Dei servitori Della regina Certo Infatti Lei è la regina Ma anche prima L'hai chiamata regina Sì quella è la mia Gaffa da maestro Però Io ti ho seguito Il 2 più 2 Lo fai qui Perché le ombre Le ombre sono qua sotto Esatto Le ombre sono qua Ma in realtà Ma in realtà Questa cosa Io te la dissi già Ai tempi Di vederla da Rom Eh lo so Lo so Esatto Ti ricordi che ti dici Per me questa potrebbe essere La regina Sì però lì ho detto Come madonna santa Sì sì esatto esatto Lei è una regina Che era protetta Da queste ombre di Yharnam Certo Sì Premesso che essere regina Non sembra un ruolo Particolarmente felice In questo mondo Sì Questo carattere È noto anche a coloro Che servono la regina Che porta in sé Un bambino del sangue Un bambino del sangue È solamente un bambino Che farà gola Al grande essere O ai grandi esseri In generale Che ha però Appunto delle caratteristiche speciali Esatto E una regina È colei Che lo porta in grembo Esattamente Ora parliamo un attimo Del finale però Sì German è contento Che la notte di caccia Sia stata conclusa Ben che noi non abbiamo trovato Nessun sanguesmonto al momento È vero Noi fermiamo il pianto del bambino Fermando il pianto del bambino Per German Il nostro ruolo è finito E possiamo morire Ed essendo che ci sono Infinite bar Là dentro Infinite lapidi La cosa più probabile È che la prossima notte di caccia Che verrà dopo Iro Sarà più o meno la stessa cosa Qualcuno offrirà In dono A un grande essere Un bambino German German vorrà che questo bambino Anzi il grande essere A protezione di questo bambino Venga giù E che il bambino Ascenda Sostanzialmente E Dopodiché German è tranquillo E È onesto Che dice Basta Non c'è più bisogno Che tu viva questa vita di merda Goditi il giorno Goditi il sole Sì Rimaniamo noi qui Forse mi sbagliavo German non è così malvagio O Quello che abbiamo fatto È una roba incredibilmente deplorevole Io non lo so Perché questo è il punto Renditi conto che Nonostante Tutto quello che A livello Trascendentale Si è riuscito a comprendere Di Bloodborne Questo è ancora un dubbio Cioè Il punto è che al momento È aperta sia la possibilità Che German sia un merdone E ti liberi dal sogno Per non farti vedere le porcate Sia che German sia una persona onesta E quindi Una volta che Tu hai compiuto il tuo dovere Non c'è più bisogno che tu soffra E tu in realtà hai fatto qualcosa Cosa di benefico Spezzando questo rituale Il fatto è che German l'ha già fatto German ha già fatto questa merdata Perché l'ha fatta con Lawrence Perché invece adesso Vuole che questo bimbo muoia Premesso che non muore in realtà Quindi mi sto sbagliando Sono confuso Eh ma Tu pensa Che cosa hai vissuto appena adesso È una sensazione che Bloodborne Avrebbe potuto non offrirti più Hai tutto Dinanzi a te Chiaro Limpido Avevi tutte le risposte Messe anche in un ordine coerente E ben costruito E adesso qualcosa ti ha ricordato Che Ancora quegli occhi della mente mancano In qualcosa manca In qualcosa manca Non mi è chiaro il fine di German Lo so È giusto che non ti sia chiaro È giusto che non ti sia chiaro German vuole che infiniti cacciatori Facciano Cacce Perdonate la ripetizione E una volta finito il loro percorso Li libera dal sogno E passa al prossimo Perché come ci dice l'automa Infiniti cacciatori sono venuti qui E se ci sono tutte quante quelle lapidi Vuol dire che è finita allo stesso modo Tutti i cacciatori poi una volta vissuta La terribile Tremenda caccia L'incubo che ne consegue Dicono Ok basta Voglio andare via E a quanto pare è successo molto spesso E allora la nota È di German però Dentro l'officina Eh sì Perché lui stesso Definisce Terribile È di German È di German È di German Nella zona Piena di ragnatele Che ti dice Quindi secondo lui Abbiamo fermato il contagio Sì È di German Considera quindi Che il rifiuto È la prima volta Che accade È dall'inizio della caccia Corretto È la prima volta Che accadrebbe Perché sono tutti morti Gli altri È il pieno di stombe Molte più di quanto Sembravano all'inizio In quel giardino È pieno di morte Pieno di morte Ti posso fare Una domanda Molto estemporanea Certo Devo farti una domanda fondamentale Che in realtà Non dovrebbe essere Minimamente necessaria Ma Visto che sono una persona Che somatizza E che nonostante Dieci anni In questo lavoro E sono diventato Molto bravo A glissare C'è un limite E mi sta venendo l'ulcera Ti faccio una domanda tecnica Ok Allora Tu adesso Hai fatto Questo gioco È patto con me Di roleplay E il tuo personaggio Affretto una scelta Va bene Ok Dimmi Rispetto Allora Ti do Due opzioni Momento Nostro Di condivisione In cui si gioca sia Nel separare il giocatore E l'esperienza del personaggio Quindi Una scelta DLC Segreto Extra Poi Secondo finale E si va Nel New Game Plus Opzione B Arrivi qui Fai un finale Ricarichi Fai l'altro finale Poi fai il DLC E poi rifai un altro finale Per andare in New Game Plus L'opzione A Ti ha fatto sentire In qualche modo Forzato Violentato Ti hai distrutto la blind Non ti sei sentito controllato Hai preso una scelta Che non volevi fare Faccio cacare Oppure Fa tutto una merda Perché Si stanno ammazzando Fra di loro In quanto Ho completamente distrutto La tua esperienza Facendo di fare una scelta A hero Per dire Non vorrei Perdonami No Ti giuro che non ho capito Nemmeno io Allora Visto che ci sono due finali No? Qui a disposizione Accettare E rifiutare Si si E io Fin dall'inizio Ho avuto In questa live L'idea di farti arrivare A questa scelta Che non Eri inconsapevole Sarebbe stata il finale E dire Cosa farebbe hero E poi A seconda di A B Io speravo Io speravo Che fosse farsi uccidere Perché poi avremmo avuto L'aspettativa di rifiutare Dopo il DLC Per poi andare Io sono sereno Alla grande 100% Per me Lo so Lo so che sei sereno Però la chat è impazzita Come se io avessi violentato La tua blind run Come se ti avessi fatto La violenza La differenza Tra Quello che avrei fatto Io da solo E quello che Ho fatto con te Sarebbe stato Unicamente Andare da German Forse più tardi Perché non ero Ovviamente consapevole Che mi avrebbe portato A un finale Ma nel senso Prima o poi L'avrei fatto E in realtà Ci sono andato io Ho deciso io Di andarci In consapevole Che fosse un finale Quindi è difficile I blind Probabilmente Non avresti avuto Un backup del salvataggio Saresti finito In New Game Plus Ovviamente Succede Però E avrei tirato Le madonne Probabilmente Però Ovviamente Ma Se anche Non avessi voluto fare La strategia creativa Di farti un finale Giocare al DLC E farti vedere L'altro finale L'alternativa era Finale A Ricaricamento Finale B Giocata E poi scegliere Un altro finale Tra i due Cioè Era una ripetizione Che in questo caso Non ci sarà Perché c'è questa sorta Di percorso Che include anche poi Il DLC Per poi l'aspettativa Del vero finale Che faremo Per il New Game Plus Allora Sicuramente Adesso Io non faccio L'altro prompt Di German No certo Che potrebbe portare A un altro finale Prima di aver fatto Il 100% del gioco Eh ma è quella Che è il mio piano Ovviamente Certo Ok ma questa cosa Secondo Non ho capito Cioè Questa cosa Di non fare subito L'altro finale È il problema Credo Che abbiano percepito Il fatto Che ti abbia Parlato E fatto Concentrare Sul personaggio E non sul giocatore Come una violenza A Francesco Alla sua esperienza Che altrimenti Adesso è rovinata Ma non capisco In realtà il motivo Visto che non hai perso nulla E soprattutto Se tu avessi fatto qualcosa Di non completamente Innamorato dell'esperienza Me l'avresti detto Presunto Allora L'unica cosa È che ovviamente Mi hai posto una regola Eh certo La regola del personaggio Ma è una regola Che L'avrei fatto per un motivo Alimenta la condivisione Da parte di un appassionato E l'amico Penso Che sia una cosa L'avrei fatto per un motivo C'è un motivo dietro Il fatto che hai fatto Questa Mi hai detto di fare questa cosa Fine Lo so Mi fido Basta Non so perché Me l'hai fatto fare Ma ovviamente Se io avessi fatto Me l'hai detto Proprio perché Sapevi che C'era una sola scelta Rifiuta Ovvio Voglio vedere Se c'è altro content Esatto Perché se offri la vita E vai via dal sogno Non c'è più niente da fare Ma poi Appena ho visto la luce Ok questo è un finale Esatto E poi Si sarebbe in caso Ricaricato E si sarebbe visto l'altro Oppure si sarebbe fatto il DLC E si sarebbe visto L'alternativa Ma piuttosto che l'alternativa Io ho voluto scoprire Cosa c'era nel cuore del personaggio Per poi E secondo me È uscita una cosa bellina Solo che Mi hanno fatto venire l'ulcera Si sono ammazzati fra di loro Per mezz'ora Ho detto A un certo punto Glielo devo chiedere Mi sarà sfuggito qualcosa In realtà Sapevo che non mi era sfuggito niente Perché ho empatia Però Ok Va bene Io sono Sono tranquillo Secondo me Aspetta Aspetta C'è un'obiezione Finale Che a questo punto Puoi risolvere In maniera sincera Allora No Mike Io non sono d'accordo Con la chat Ma Hai frainteso La gente Pensa che tu abbia Manipolato Saido Forzando nel personaggio Di Hiro Che di roleplay Anche lui Avrebbe rifiutato Ah No ero sinceramente Combattuto Anzi Io Quando hai detto Le prime frasi Ho detto Vabbè rifiuta L'intintiva è stata Rifiutare Perché sentivo Che Hiro Stesse andando Verso Un percorso Di Onnipotenza Di delirio Di onnipotenza Però allo stesso tempo È un personaggio Che è sempre stato Un po' schiavo E Mi sono preso Cinque minuti Nei quali non ho detto Praticamente niente Perché stavo pensando Ok ma Cosa farebbe Una persona Che ha Adesso Assaporato La possibilità Di ascendere E con Vent'anni Di trascorso Di Si padrone Probabilmente Farebbe di nuovo Quello che è abituato A fare Ricadrebbe Nel Nello stesso Tunnel Negli stessi Stilebio Facciamo tutti Nella vita Quindi Secondo me È questo il motivo Per il quale Hiro dovrebbe Alla fine dire Ok uccidimi Vado via Perché Troppo poco Quello che ha vissuto Anche io avevo visto Hiro come molto succube Però Vista quest'ultima Introduzione Ho Poi anche ascoltato Il tuo istinto Di rifiutare Ho detto Rifletti sul personaggio Non aver porca Di perdere qualcosa Vai full in E parla E Aggiungo Ho riflettuto Proprio Sul fatto Che ci mancavano Degli elementi Per capire Perché restare E poi tra l'altro Tra Tot Contenuti Meravigliosi E rifiuterai Quindi Tempo al tempo Va bene Cioè Vada bene Se tu non ci fossi stato Avrei rifiutato Ma Ovvio È la base Ma è quello che ho detto Appena rifatto Nessun giocatore Purtroppo O meglio Al mondo Sicuramente qualcuno Ci sarà Ma generalmente Il giocatore Di una certa categoria Ma poi vediamo il finale In cui ti fai ammazzare Sì però intanto Rifiuta Suka Vediamo Che succede Ovvio Quello sì Quella è la base Del gameplay Ovviamente Ci sta Per quello Che ho voluto Fare un patto Nella scorsa live In cui Ti ho detto Senti va bene Però poi mi fai Un roleplay puro E secondo me Di roleplay puro Nonostante tutto Ha senso che Hero invece Accetti Di essere Libero Ha vissuto Una vita intera Nella violenza Qualcuno gli mostra Un gesto di affetto E Lui accetta E il fatto In realtà Che poi sia onesto Almeno Sembrerebbe Onesto Rafforza il fatto Che come scelta Possa avere senso Diciamo che tutto Secondo me ruota Attorno al fatto Che io non conosco Ancora il vero segreto Della chiesa e la cura Di Billingworth Di quel che è Dentro il DLC Sì Ormai sai Tanto Cioè non è Però il segreto Nascosto nell'incubo Il segreto Non lo sai E Non ho neanche Il terzo cordone Chapeau Non ho neanche Il terzo cordone Quindi Questi sono motivi Che mi portano a dire Ok Iro resta Per fare Per fare che cosa Adesso ancora Non lo sa E Secondo me È giusto Che prima lo sappia Mi piace Pensare però Che questa roba Sia avvenuta Nella testa di Iro E beh Quello il punto Certo Iro e Francesco Shen e Michele Sono molto diversi Quindi è avvenuto Nella testa di Iro E Iro torna qui Dopo aver vissuto Questa esperienza Extracorporea Sa che cosa c'è In cima alla torre Conosce già la lotta Ha già battuto La belva Che c'è là sopra Ma Vuole prima scoprire Se ha fatto La scelta giusta Va bene Perfetto Perfetto Ci sta No ma in realtà Nulla 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 Di quello che mi hai detto Mi arriva nuovo Però Ho visto Le guerre puniche Quindi ho detto Madonna Piuttosto Visto che già C'era lo stomaco Che si mangia da solo Non so Vabbè Chiediamo Visto che Allora Il mondo è tuo Tranne la balia Se vuoi andare a vedere il DLC Adesso è aperto Non Un califino Allora You do you Fammi vedere che cos'ho Puoi andare avanti Puoi farti i calici I calici sono Un universo a parte Premesso che siamo quasi a tre ore di live Quindi mi dovrai dire tu poi quando No beh Guarda Hai una mezz'oretta Se vuoi Ok O chiudiamo adesso O una mezz'oretta di quello che vuoi Questo è un finale ovviamente volendo Grazie Ovviamente è il finale Però Non essendo così tardi Assolutamente Per quello che te lo chiedevo Scegli tu Cioè La domanda è Non c'è uno No 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 Da questo punto In una mezz'oretta Riusciamo a fare qualcosa O finiamo tipo No Allora In una mezz'oretta Riusciamo a fare qualcosa Non è un finale Però Questo è un finale Il debrief È Un tuo Incuriosirti Dove vuoi Devo scendere ancora Per prendere La lanterna più vicina Sa proprio di finale Monco Questo È un finale Monco Perché Abbandonare Il gioco L'incubo Sì Però Il fatto è che Rispetto a quello che ti vuole raccontare Bloodborne Ricordati Che l'obiettivo è scappare Vero Se tu non hai tutte le risposte Da vetro Anche hai avuto tu Fuggire Non è un bad ending Per niente Anzi È il good ending Vero Visto che ho la maledizione Metto Un 27 A resistenza E punto a 30 Dopodiché Andiamo a vedere Un attimo Questi calicini Che cosa raccontano Aspetta ma l'avevo fatta Le gemmette Sì Aspetta fammi vedere Lo stato del Sì direi di sì Aspettate 263 Sì ho già messo tutto Mike Anche Seidoy Si sta dicendo Che ha avuto un finale monco Più chiaro di così Non mi sono mutato Francesco Cioè per loro Capisci che sta succedendo Nella chat È una roba Vabbè Aspetta fammi Che tazzo È un finale monco Punto Cioè nel senso L'ha scelto l'autore Ragazzi L'ha scelto l'autore Di fare un finale monco È chiaramente un finale monco Ovviamente È così tutto così semplice Sì lo so Cioè non stavo commentando Il finale della veteran run Che ora chiudiamo E non facciamo più live Stavo dicendo che il finale No che sì Cioè secondo me Io ci trovo un motivo Dietro questa scelta E per me anche Abbastanza palese La scelta è che L'unica luce che vedi È una luce per il tuo personaggio Ma il giocatore Rimane bocca asciutta Quindi è proprio voluto Che loro ti dicano Ma è ovvio Lo vedi questo bel finale Per il tuo personaggio Che è salvo È ok È tranquillo E non si ricorda niente Delle amenità che ha visto Ma infatti è un finale monco Non sarai soddisfatto Perché tu Stronzo di merda Giocatore Vorrai vedere di nuovo Il tuo personaggio Nel sangue Nello schifo Esatto Non sei pago E torni indietro C'è una dicrasia Tra quello che vedi Quello che vive il personaggio E quello che vuoi Quindi in realtà Secondo me Ha senso E mi sorpre Il mio era un commento Ma lo so Lo so Mi sorpresa Sulla Intelligente volontà Di From Software Di mettere Dentro il gioco Un finale monco Dove ti dicono E questo è interrotto È così Questo è un finale felice Per il tuo personaggio Ma non lo è per te Non sai ancora niente La fight finale Che hai fatto Palesemente Non è una fight finale Le conosco Le fight finali Dei Stoll Sono iper epiche Ma infatti Era molto bella Quella della Balian Ma non è una fight finale La tua frase È limpida Nessuno che abbia Un certo livello di analisi Ma anche di empatia L'avrebbe Tra la fraintesa Però adesso Che c'è il vortice Dell'ansia Io ti ho letto Ad alta voce A volte Che stanno discutendo Dico ragazzi Non è possibile Ora lo faccio sentire Così Arriva La mamma Che dice no Per me ci sono Due Finali possibili Adesso O il finale Lo prendi Rifiutando O il finale Lo prendi O quello è un altro finale Monco ancora E il finale vero Lo prendi Col terzo contone umbilicale Non lo so Sono indeciso Tra queste due Con le anime di lord Ma senso Esatto Sono indeciso Tra queste due cose E Poi c'è il DLC Che è un altro finale Ancora ovviamente Che avviene sempre Perché voi l'avete scoperto Dopo Il finale normale No Certo Il DLC è uscito dopo Appunto È uscito dopo Quindi c'è un altro finale Ancora Tra mille virgolette Che è quello del DLC Che voi avete vissuto Come finale ultimo Della vostra esperienza È come Gael Esatto Esatto Che per me è Indubbiamente Il finale di Dark Souls Ultimo Anche se il finale A livello di timeline È Tu che estrai la fiamma Con la chiesa Nera Chiesa nera Vero? Sì Sì Ecco Stavo dicendo Chiesa della cura Dall'altra parte Il finale ultimo Dell'opera Sono due non morti Che si prendono a pacche In una terra di nulla Per farti capire Che questo è lo stato Delle cose E quindi Ecco ripeto Forse Mi metto Nell'ottica Del pubblico Forse Alcune persone Avrebbero voluto Che io vedessi per primo Un finale più appagante Invece Io sono contento Di aver visto questo Per primo Perché semplicemente Non ho finito l'opera È meglio Finire con il climax Che iniziare Con il climax Sono più contento Di aver rimandato Questa cosa Cioè ok Ho visto che c'è Questa possibilità Ho visto che Iro potrebbe essere salvo Iro stesso Istintivamente Prende la decisione Di essere Di essere salvo Ma allo stesso tempo In quanto io non sono contento Iro dovrà soccombere In ultimo Alla mia volontà Quella di farlo ritornare qui Quindi Iro prende quella scelta Ma io lo costringo a tornare Io sono il suo grande essere Sì lo so Ma era Ma era Ma era assolutamente Ovvio Vuoi scoprire Perché ti avevo bannato Del chalice? Sì Go al terzo piano Però ecco Secondo me Al solito Non c'è una scelta giusta Regà Magari per alcuni di voi Invece vedere La bomba nucleare Per prima È stata la cosa più figa Io Sono contento Di aver visto questo Che Ritengo un finale monco Ma un finale monco Voluto Non è una critica Alla scelta Che ho fatto È un È un finale Cioè è un commento Al come è fatto il finale È un finale Non appagante È solo pacifico Per Iro È solo pacifico Per l'Avatar Non per il giocatore Per il giocatore È una sconfitta Oh no cazzo Non ho fatto tutte le cose Che potevo fare Titoli di coda Cioè non lo so Se voi l'avete fatto Secondo me Avete rosicato Magari senza fare il backup Io avrei rosicato Però è proprio Il senso Del commento Allora Posso rimettere la chat Posso rimettere la chat Ora sì Credo che tu abbia preso Però un chalice Già finito Non capisco un cazzo No ma che È una vita Che non andavi nei chalice È una vita Poverino Mi mutate Per due settimane Siomon Per favore Potete fare Questa cosa Mod Perché a me Va bene tutto Ma Il mio amico Michele Mi sta chiedendo Un parere Sulla sua scelta Oltre che collega È anche un amico Quindi non mi devi Caccare il cazzo Se io parlo Con Michele Riguardo quello Che è una sua scelta E mi sta chiedendo Se mi ha dato fastidio E io sto rispondendo Al mio amico E mi fai fare il cazzo Che mi pare Nel mio canale Allora Questo è il cun chalice Vero? Sì Il cun Teniamolo È una cosa Che sicuramente Avrà un so perché Ma È questo Livello tre cuore Cumeriano centrale Sì è lui È lui Allora Eravamo rimasti A quale boss? Era il No Lo ptumeriano Era l'ultimo Dell'altro O non era questo? No era l'ultimo Di questo È passato troppo tempo È questo L'ultimo era Il discendente Ptumeriano No Ah no No è vero Quello inferiore Aiuto No è vero Abbiamo fatto due mesi fa Ah no ricordo È vero Perché io non ti avevo interrotto Poco prima Che tu arrivassi a qualcosa Ti ho proprio impedito Di arrivare lì Sì 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 È quello inferiore allora Ma non hai un altro piano Lì davanti Vero? Guarda un po' Se per caso hai un ascensore Penso di sì Guarda un po' Se per caso hai un quarto piano Ma non lo so Fammi controllare Ah ma quindi ho sbagliato di nuovo Cioè nel senso Non ci sta un cazzo qua Devo rifare un altro rituale Eh ma aspetta aspetta Perché io ho un ricordo Potrei confondermi con i cialis No no vai dall'altra parte Io non ho nessun ricordo Invece No ma guarda I cialis Sono la cosa più lontana Da un ricordo Di questa cosa Guarda un po' Se davanti a te c'è un altro ascensore In fondo la Se ti va dritto E si apre una porta Continua dritto 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 No allora ok Allora devo uscire E fare un altro rituale proprio Perché qui avevo droppato Un altro calice ancora Giusto? Eh tu pensa che me l'ho riaperto Infatti ho sbagliato anch'io Ok allora dovrebbe essere Quello inferiore L'automa sta depressissimo Ah no si è addormentato Ok Quindi è quello inferiore No mi sa che va fatto Un rituale da capo Sì Calice di ptumero inferiore Inferiore E infatti richiede Sangue rituale 3 Vai E' questo Gli altri invece? Gli altri partono Devo fare altri Cioè probabilmente Facendo l'optumerio inferiore Farmerò roba Per gli altri calici Bravissimo I chalis funzionano in questo modo Fondamentalmente Tu mano a mano Che sprofondi Nei segreti Dei laverinti Più sotterranei Trovi i materiali Per aprire Un rituale Più contorto Che ti permette Di raggiungere Interpretazioni Del sogno Di dungeon Ancora più nascosti Esattamente Mi dicono che c'è già Ok C'è già quello inferiore Controlla Controlla Labyrintho Allora Andiamo con ordine Perdonatemi Perché magari Mi confondo io Altare improvvisato C'entra un cazzo Poi Altare Labyrintho Ptumeriano Non c'è E' quello Il primo che abbiamo fatto Poi c'è Il kumchalis Che è place name Sì vabbè ovviamente Ovviamente Benissimo Poi c'è Labyrintho Ptumeriano Centrale Poi non c'è niente No Ce ne sono tre chiusi Quindi secondo me Non c'è Però Raga c'è già Non ho capito Forse mi Mi sono scordato Io onestamente A guardare il tuo schermo Non lo vedo E allora Oh pace Al massimo Sprechiamo Sprechiamo della roba No ma non credo Che sprechi niente Queste sono tutte cose Di trama Cioè non sono Dungeon opzionali Cioè i dungeon Sono opzionali As a whole Ma Questo è Oh e anzi Ora hai anche Il sangue rituale Per farlo Godo Andiamo Anche perché non ce l'avevo Quando me l'hai bloccato Vero? No Non ho Mi ricordavo C'era il grosso rischio Di però poter ottenerlo E fare spoiler Adesso Noterai anche Come nonostante La tua forza Sarà una passeggiata Ma Still Somma Io vado Con i piedi di piombo Ora L'ultima volta Che abbiamo fatto Un chalice Siamo stati ricompensati Con grande Ehm Lure Noi non sappiamo ancora nulla Degli ptumediani In realtà E' vero Ancora non sai qualcosa di importante Più che Qualcosa Oddio Ok Avete ragione La lampadina Anche io ragazzi Mi ricordavo che dovevo fare un terzo piano Però Ah I ragni stavano già qua Pensate Ma anche io avevo quel ricordo Però evidentemente Tra l'altro Tra l'altro i chalice Li faremo in co-op In futuro Dalle prossime Quando giocheremo i chalice Da ora in poi Saranno tutti in co-op Ok Quelli Anche quelli di trama Sì sì Ok Adesso sì Ah la lanterna del respawn Non l'ho accesa scusate Non si accende da sola No 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 Non si accende da sola Ma non è importante Non è un chalice in cui Ti vedo morire Onestamente Eh questo Tranquillo Vabbè vabbè Non si sa mai Non si sa mai Tardi Beh Sai Miro La mia percezione È che siano di trama Cioè sicuramente Non fa parte Questa roba Della mappa Di gioco Tradizionale Però L'ultima volta Nel Chalice Abbiamo trovato Un optumeriano Il cane Sì La Conferma che le belve Esistessero anche a suo tempo La runa Esatto Sono di trama I non morti Quindi io li percepisco Com'è di trama Sono di trama Opzionale No più che altro Poi io non so Quanto scopriremo Da qui in poi Per incazzo E saranno ripetizioni Però Al momento L'idea di fare Chalice Mi fa prendere bene Porco Ah è vero Grazie chat Grazie Avevo detto Che avrei Bloccato la terza profondità Non il terzo piano Cioè il terzo piano Di profondità Sì Ecco Ecco È vero Dicevo però Mi Mi è sembrato Che ci fossero Tante risposte Qui Anche perché Sugli ptumeriani Penso Che Si abbiano Molte più domande Che risposte Al momento Un sacco Un sacco di botte Per esempio I sacchi di botte Ora ti portano Agli Argul Ora si Per essere consumato E probabilmente Infilato In una di quelle Amalgamation Del cazzo Ma perché sono Anche qui Il loro scopo Si è spostato Ma non era diverso Esatto Bravo Qui avevano Il compito Probabilmente Di portare Da qualche altra parte La gente Che menavano Eh vabbè Bravo Saidonia Ti Ti rivela Però Che i Sacchi di botte Erano ptumeriani Esatto Ti conferma Che erano ptumeriani Niente Oh Cazzo loro Sono bastardi Da perriare Sono lentissimi Ti fregano Hanno attacchi Dileiati Regina Si o no Dai Eh si Regina Si dai Rispetto alle richieste Fatte Eh capito Bravi Adesso mi sembra Un lusso La regina Rispetto a Ragni Sacco di botte Vi direi di no A che livello Sono Al 87 Nice Il livello Consigliato per il DLC È il 90 Il livello Consigliato per il DLC È il 90 È il 90 Godimento vero Godimento vero Lo so So schizzinoso Bimbi lo so Lo so Ma i ragni Non mi vanno Che vi devo dire Ma io sono già stato qui Non credo Perché c'è una porta da aprire Molto coperto Ancora una volta La bici Non abbiamo mai trovato Emissari celesti qua No Per niente E tu Bella spada Frate Vero È la prima volta Che vedi quel nemico Già Diciamo che la tua arma Più 10 Ti ha permesso Di evitare un combattimento Fatale Sì sì L'ho praticamente Devastato Per ora Per ora Sì poi Più andremo in profondità Più sarà un trauma Aveva il volto coperto Sempre qua Sì vabbè Qui veramente Gli ho fatto Perry morto Però Vabbè goditela Finché dura Sì sì Sangue rituale Sangue rituale Tutta roba preziosa Conti fatti In teoria Qua Gli plumeriani Potevano Anche loro Ora che abbiamo Un po' più di informazioni Potevano anche loro Creare le condizioni Per un bambino Offerto in dono Ai Grandi esseri Per quel che ne sappiamo Era il 4? No era il 3 Mi sa Ho trovato un 3 No Ho un 4 Mi pareva che avesse questi Ho un sì o no Ma ho paura Di essere bannato E denunciato Nikito Così mi ammazzi Di curiosità Però Allo stesso tempo Se i toss Di Twitch Vengono violati C'è un problema Quindi Ti consiglio Di non farlo Ah il 4 L'ho droppato Prima dal sacco Di botte Però spendo Lo butto Ah che culo Un 4 droppato È raro Ottimo Very nice Indeed Sto tornando indietro Come il mio solito Peraltro Perché c'è questo butto Quindi Un trappolo per sempre E così Finì l'avventura Questo è il vero finale Però sorprendentemente Vi dirò Balia Di Mergo Sì Beh Beh Anche perché Dà molto all'immaginazione Comunque Eh Guarda quante mani Quante cose Al mondo può fare Non si sa Ha anche La Capacità di fare Immagini illusorie E speculari Quindi insomma È vero Si può sdoppiare Insomma Ci sono tanti modi Di divertirsi Con la balia E poi c'è anche Il kick of babysitter Quindi Verissimo Bravo Bravo Può fare roleplay Le fai un po' Gugu gaga Vedi che cosa ti risponde Bello Bello Mi piace Ora dov'è la trappola Qui Ah no Qua Ma io ci sono già stato Qui Vero Benissimo Quindi andiamo Nell'altra porta E questo era tutto Oblizionalo Esatto Esatto I chalice diventeranno Molto efficienti Nell'esplorazione Mano mano che vai avanti Certo Certo Sicuramente Sicuramente Molto efficienti Apprenderai No le stanze Eh ma certo Ma certo Ma certo Io Assolutamente Dove sto andando Adesso Ok godo Era giusto Eh nessun commento Sul falso invalido Beh chiaramente Si è messo in piedi Quindi dimostra Che è troppo onesto Questo personaggio Non sia Allo stesso modo O Non so perché Faccia finta Di essere inseri a rotelle Probabilmente per non intimorire Ciò detto Ci ha promesso salvezza Ci ha dato salvezza Quindi tra le due bugie Ok Non è rense delle rotelle Ha detto di salvare Io l'ha salvato È vero Ok La stavo testando Ragazzi La stavo testando Si vede cosa c'è qua dentro Sembra la stessa sala Nella quale abbiamo combattuto Il guardiano Che proteggeva il sonno Del grande essere Non sappiamo però Chi Che poi Perché i grandi esseri Merda Eri anche attento Alla trappola Che sfiga Stavo parlando E mi sono completamente Dimenticato Però la speculazione Era più importante Dimmi Eh no Perché i grandi esseri Dovrebbero dormire In delle tombe Interne C'è tanto che non sappiamo Mike E Vedrai Sono nel cosmo Perché Perché dormono qua Ci sarà Ci sarà possibilità Di arrivare A dei punti Di parlarne Ok Nonostante Si sia ormai Mossa La nostra Narrazione Nei meandri Più oscuri Di Bloodborne Quelli più astratti Vedrai che Ci sarà ciccia Che cazzo è Quella roba Ragni 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 Ancora ragni Un albero Delle statue nuove Forse Mi piacerebbe Entrare in quella stanza Prima o poi Mi ricorda La regina Molto le spose I cadavere Che trovavamo qui Eh sì Magari c'è un legame Ed erano Le loro regine Quelle Dico Optumeriane Direttamente Certo Che cosa cazzo Che cosa cazzo Che cosa cazzo Ma vaffanculo Meno male che doveva essere tranquillo sto dungeon Fanculo Fanculo Sì sì erano in rage ragazzi Provavano per fare la rage art di Tekken Ma questi ragni Ma questi ragni sono infernali Ti ricordi cos'è quel glow rosso? Certo certo c'è un campanellino ma lo sento anche Devo trovarlo però Eh vabbù Spiderman I ragni sono Veramente Specialmente quando non sono da soli Sono tremende Anche Al tuo livello che è alto Sono tremende Ah alla fine sei comunque approfondito a tre No Però Però sarei dovuto Resistere quindi maestro deluso? No 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 per niente Minchia All'una Dopo la balia first try È vero è diventato low knight ragazzi E non me ne so accolto Ok qua ragniapolis Quindi andiamo di qua Giusto? Gli euro li prendo dopo eh Pezza di cazzo Ficcate la nel culo con la campana E io godo Ok ma dove sono i miei soldi? Oh no C'è uno di questi stronzi Sicuro? Eccolo là Il bastardo con i miei soldi Ridammeli Ragno della stazione centrale lui Ho messo 40 minuti a sparare Oh dai Oh dai Giulio Ah Guarda un po' questa palestra Eh già Guarda lui confuso che dice Ma come faccio? Oddio Scusa Fottiti Good pari Momento ben ill questo comunque Da qualche parte una porta si è aperta Sì però fermate C'erano due porte da aprire Quella del boff E quella con i ragni Va bene Se non c'era una scala prima Nel mezzo non c'è neanche dopo Quindi potresti provare a andare di lato Che ne dici? La leva vi ho già detto di sì Una muro Ah ma qui che cosa c'è? Eh Alp Ah ma era questa la stanza che vedevo Era il contrario Ok è uno shortcut Basta allora manca solo la porta del boss Le statue sì Le statue chiaramente sì Ho anche delle idee Ho anche delle idee Sì 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 Serenamente Allora Era qua la porta del boss No Era Era qua Lo cazzo sta andando Era Era qua La festa Sì No boss Condono No boss No invece sì Posa dopo la porta Guardiano spieta Futtiti Madonna mia Zitto Metà vita Zitto Altra metà vita Così si fa con le armi V10 Zitto Ho pure saltato Ho detto il maestro Si fa così No non mi uccidere Non mi uccidere Non mi uccidere Poi si arrabbia Fottete E mo che famo Giulio No non è morto 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 Ma come Ma come Ma come Ma come fai Essere vivo Oh no Ma vaffanculo Ma era morto Ma guarda la vita Ma Era inesistente È sopravvissuto Io ero tranquillo Non stavo Cioè Ho detto ora mi curo E mi è successo anche a me oggi Boh Hanno voluto farti fare un'altra partita Dai Si ma Cioè Ho fatto La Cazza dei cazzi Primo try E mo questi Due try Boh Vabbè Ma vaffanculo Vai Eh Non è bo Non c'ho I proiettili Non c'ho I proiettili Non c'ho I proiettili Non c'ho I proiettili Scusa 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 Oh i proiettili Coglione Non ho i proiettili Scusa Scusa Oh non ho i proiettili Giusto Li ho usati per il cannone Dai coglionbero E attacca No Ho fatto due asciate Delle asce Probabilissimi No 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 Voglio di nuovo Sai Donia Ma se ti dà tanto fastidio Gianpaolo che spara Ma perché non lo purghi subito Eh vabbè Aiaia Dai Gianpaolone Ha rotto il cazzo Oh E ora E ora senza sparini Avete rotto la minchia Adesso senza sparini Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Asento Godo Ciao Ora è morto Vero Eh non posso ricaricare Il sangue in alcun modo Volevo prenderlo a cannonate Sto bastardo Lo voglio uccidere creativamente Vediamo Vai Ce l'ho Non si può fare Questa cosa Contro un boss Devo provarci Via Ah ma cazzo Ma lo stunno Mentre faccio quella roba Via Oh via Sì ma non gli faccio niente Vuole una fettina di kebab Con o senza cipolla Useremo le armi veloci Lui è veramente Lui è un muro Con cipolla o senza Con cipolla o senza Con cipolla o senza Niente Devo andare via È tutta strategia Ragazzi Non si può fare Con cipolla o senza Va bene Altra arma creativa È tempo di powder keggarsela Oh oh Non gli ho fatto un cazzo Va bene Il potere della parametria Powder keck Ok powder keckando Me la ce la posso fare Con robe pirotecniche Powder kegg Face me Powder keggandosela Via Accendi Dai Dai Eh No 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 Powder keck Il kebab va cotto La danza La danza Ultimo duello Un ultimo duello Che cazzo fa Niente No non mi piace Tonitrus Ah no ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ragazzi ce l'ho Ce l'hai? Ce l'ho Un mio bagugno Paul Phoenix Eccomi qua In questa stessa live c'è stato La baglia di mergo La speculazione Un finale Capisci Un piano ben riuscito Beh direi che ci siamo mai Sì Hai avuto accesso Finito il primo piano Finito il primo piano Godone ma mi ha droppato qualcosa Ma proprio al massimo un materiale O una gemma Non I chalice sono così Gemme per potenziarti Che per ora sono inferiori a tutto quello che avrai già E soprattutto Materiali per i prossimi chalice Adesso hai aperto Il tuo accesso a ogni possibile futuro chalice E la prossima volta deciderai se Andare a fondo E proseguire in questo percorso di complezzismo 100% per ora Cioè secondo me Almeno un po' di chalice Li voglio fare No io sono d'accordo Cioè se fossi Se non fossimo in una blind libera Ti direi Facciamo i chalice Perché poi il DLC è La ciliegina sulla torta Non dico di farli tutti Però di farli Ecco Però dove sono i miei soldi Mike? Hai perso dei soldi? Eh certo Sono morto prima comunque Un coglione patentato Davanti a Gino Formaggino E Formagella Ma Allora Fai Exit Rientra Che dovrebbero apparirti abbastanza Se li hai rubati una creatura Li togli dalla creatura Così E no ma Non penso li abbia rubati Vabbè muovete Non è detto che si facciano Due settimane di chalice Ragazzi Dipende da quello che ci trovo dentro Se al secondo chalice Si può anche fare due settimane Può anche essere una live Chalice L'altra no eh No però quello che Cioè secondo me non c'è Un modo prescritto Il punto è No infatti non c'era In questo chalice Non trovo un cazzo di lore Ma trovo i materiali Per il chalice di Loran Vado Non trovo un cazzo di lore Manco lì Mi rompo i coglioni E vado nel DLC Certo Dipende Eccoli qua No no erano buggati Perché prima qui non c'erano Eh ma infatti succede ogni tanto eh Va bene Beh Bellissimo Mike Grazie mille della serata Grazie a te È stata molto bella E mi sono divertito tanto È stato un bel climax Sono d'accordo E Finale Buono per Iro Ma non buono per Francesco Ovviamente E Non vedo l'ora di vedere La vera strada Ma infatti La cosa bella secondo me È che adesso hai Chalice e DLC Con l'aspettativa del rifiuto Con l'aspettativa del rifiuto E di una motivazione Molto più radicata Nelle scoperte che faremo Nei chalice Al piano superiore di Birgenwert E io non ho Mollato la presa Non hai mollato Ho appena realizzato una cosa Dimmi Ho appena realizzato una cosa Ti prego Cosa hai realizzato? Che è un solo cordone obbligatorio L'altro cordone L'abbiamo trovato nell'officina È vero È da Josefka l'ultimo Se no dov'è? Cima a Birgenwert Improbabile Willem con un cordone Hai trovato il sangue nell'incubo? Già Quindi mi manca tutto un pezzo di gioco Che Miyazaki Ti abbia voluto dare Un richiamo Di level d'eso Come diresti tu? Come a dirmi Ehi ti manca lei? Sei riuscito a leggere Perché c'è il sangue di Josefka lì? Meriti assolutamente Come premio finale È il fatto che è quel sangue Per ricordarti che Josefka esiste È molto più una scelta Di gameplay stavolta Che non di narrazione Ci vediamo settimana prossima maestro Ci vediamo settimana prossima Grazie mille della splendida diretta Un abbraccio forte Anche a te E a presto Baci baci Ciao Una delle live Più belle Che immaginavo della mia vita Resa qualcosa Che mi farà dormire Col mal di stomaco Tutta la notte Tra l'altro adesso esco con Sido Oh madonna santa Come avete Come è possibile Riuscire a rendere La condivisione Di qualcosa così bello Così Brutto Erano Anni Sono riuscito Per anni A non fare influenzare I contenuti Dalla chat Ho sempre ignorato Ho risposto In segreto Ho sempre scritto Ho annullato i microfoni Agli altri che non fossero me E invece stavolta Siete riusciti A esasperarmi così tanto Da farmi dover Entrare in contatto Con Francesco Per far capire La follia Di quello Che stavo leggendo Com'è possibile Che riusciate a vedere Del brutto In una condivisione Così bella Oddio Che malessere Che fastidio Che mal di pancia Mi è venuto Sì 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 Adesso usciamo E tornerò a casa Alle sei del mattino Succede Si fa Dio mio Erano anni Tanti Tantissimi anni Penso siano almeno Tre o quattro anni Che non avevo Un mal di pancia Così sommatizzante Per dei contenuti Madonna Com'è possibile È stato un piano Così ben riuscito Tra l'altro Mi ricordo Che in chat Mentre lui stava dicendo Mentre io gli dicevo Devi scegliere tu Come personaggio L'agis mi diceva No Forzalo E digli Di farsi uccidere Così perdi il tuo piano E io li ignoravo Per trasmetter loro L'importanza Che la scelta fosse sua Che per me Era più importante Che fosse sua Che era più speciale Che fosse sua Che poi io Mi sarei adattato Oh niente Era una cosa così bella È una cosa così bella Comunque Cioè Così c'è l'aspettativa Per un altro finale Piuttosto che La forzatura Di doversi adattare A vederli entrambi subito Spoilerarsi E poi giocare Il resto del gioco Perché altrimenti Avrei dovuto forzarlo E dirgli No Non andare Da Garman Cosa che in realtà Ho fatto con gli altri Souls Quindi paradossalmente Le run in cui ho forzato tutto Avevano meno lamentele Perché ero più autoritario Incredibile Saido Aveva l'idea Di cambiare il carattere di Hiro Rendendolo più ambizioso A partire da questa diretta E inizialmente Voleva rifiutare Per questo Gli ho ricordato Non perdi nulla Stava diventando Un po' giocatore Hiro Dall'inizio della storia È sempre stato Sottomesso Impaurito E piano piano Conscio di qualcosa Che lo stava Facendo crescere Però Per me È andata Meravigliosamente Per Francesco Anche Che 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 mal di pancia Ragazzi Ammetto Che fa passare La voglia Queste sono Quelle cose Che mi potrebbero portare A prendere Delle decisioni diverse Perché non ne vale la pena Cioè Investire così Tanta emotività In qualcosa Di bello Contorto e distorto Da chi Pensa di conoscere Meglio il creator Dell'amico Quindi decido io Cosa preferisce lui E' una roba Che mi fa sentire La parasocialità Tossica talmente Tanto Che dico Sapete cosa Non lo faccio più Divento il content creator Autorale Anche nei confronti Delle emozioni altrui E decido io Chi fa cosa quando Si fa il patto prima E via Perché Metterci dentro Il cuore vero Cioè Metterci dentro La mia emozione Rischia di essere Un danno E non una cosa bella Quanto meno Il momento balia Le spiegazioni Le traduzioni L'inserimento Della discussione Della community giapponesi Quello E' stato Un momento Da anima Della caccia Soft Molto bello Che poi tra l'altro Non capisco Come mai Quando ho detto Quello che sarebbe successo Stasera L'altro ieri Erano tutti contenti E al mansi Ansi Si era detto Di fare il secondo finale A fine New Game Plus Insieme al terzo Al cinema Oggi ho detto No li farò ancora più contenti Perché decido di fargli fare Il secondo finale Nel New Game Dopo Il DLC Che dovrebbe essere Una velocizzazione Quindi anche Una mancanza di attesa E Blue Ball Così che possa avere L'anteprima Della falce Di tutto E niente Semper Fi E niente Ma è stato Correttissimo Che poi Che lui Che sia stato indirizzato A fare una scelta Non in nome di Saedonia Quello è il punto Cioè Come lui Ha indirizzato Tante volte E io sono sempre stato contento Poi se a voi Non piace il role play Se a voi Non avete La capacità Di Di farvi piacere La voglia Di farvi piacere Farsi sostituire Da un personaggio Non è una cosa Che fa per voi Ma a me Assaido piace Anzi Anzi Quando lui ha cominciato A dire Voglio rifiutare E io ho fatto Vai Ma ricorda che Vai Ma non dare per scontato Che Mettere il tarlo Del dubbio Non è forzare Nettamente E far capire Che potrebbe Essere curioso Ma io ho smesso Di ascoltare i commenti Animaleschi Diciamo Ma se l'insistenza Diventa così tossica A un certo punto Devo Non poter Non posso far finta Di niente E devo far notare Che qualcosa Non va Qualcosa non va Anche perché Non c'è stato Niente di brutto È stato proprio bello Io sono contentissimo Però Cioè è quello Che mi fa stare sveglio Fino all'alba A preparare i video Per curo È Sara Però sì È vero Avrebbero fatto storie In ogni caso Avrebbero litigato In ogni caso Perché Se non è come dico io È sbagliato Però Rimane il fatto Che In nome di quello che è Una veteran run Che è un format Che ho creato io E che si è sviluppato Con Francesco Quando ne abbiamo costruito Una collaborazione Di amicizia E di Anche appunto Forma di condivisione Insieme Alla fine La decisione È comunque nostra È nostra La decisione E a me non sarebbe costato Niente Dirgli Il patto È fare il finale Che dico io Il patto È fare il finale Che dico io Cioè Potevo fare così Potevo fare così E infatti Lui mi ha detto Devo mettere Devo mettere Che si lascia uccidere E io ho detto No Devi fare Già che farebbe Hero Non voglio forzarti La mano su questo Ma Voglio dirti Di non fare Il curioso Per forza Accettare anche La paura Di un personaggio Qualora ci sia Saido È una persona Molto pensante Ha riflettuto Sulle mie parole Che poi Il fatto è che Questi comportamenti Derivano spesso Da un'infantilità Viscerale Perché il pensiero Che due amici Adulti Negli Enta Non si dicano Le cose in faccia E sia Allora Io mo ti faccio Tre frasi di profilo Così forse capisci Che voglio che fai L'altro finale Ma no Te lo dico Te lo dico Si dice È un po' come quelli Ti va di uscire? Ma non so Ti faccio sapere dopo No Non mi va di uscire oggi Sto a casa Cioè La crescita no? Molti Pensano che non arrivi O ad alcuni Non arriva mai Ma Appunto Questa era una cosa Molto 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 Spontanea Molto Molto Sincera E tra l'altro E tra l'altro Posso dire Se non fosse stato Cioè Non fosse stato Per questo Cioè adesso Io devo guidare Verso Milano Col mal di pancia Io avrò mal di pancia Perché Fino a che non leggerò I commenti Della live E sviluppata Che mi diranno Sei una merda Perché Ma sai D'ho detto Un'altra cosa Non importa Lo dico io Io sono il vero spirito Del tuo amico Del contenuto Io so Io so Io so Eppure Io sono convinto In realtà Che sia stato Bellissimo Cioè se non ci fosse Stata la chat Sarebbe stata Una puntata Perfetta Ed Ed è strano Che io interpreti Questa puntata Come così bella Quando altri L'hanno ritenuta Volgarizzata È strano È strano Perché in realtà Adesso Ci sarà Un sogno Meraviglioso In cui lui Affronterà i Chalice Capirà che io Frenato Rom Farà il DLC Sarà un'apoteosi Sarà un'apoteosi Che tra l'altro Ho deciso io Quanto comunicargli Poteva essere Dopo Micolash O dopo Catedral Ho detto dopo Catedral E ci va comunque Dopo Micolash Sì Adesso esco con Saido Sì 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 Alle due Esco di casa Farò le quattro Farò le sei del mattino E E adesso ci sarà E poi Si farà di nuovo La balia Lui non perderà I dialoghi Post-Cos Che è molto importante Poter avere E infine E infine E infine Rifiuterà E ci sarà La Boss Fight Premio Game Plus Sempre in nome Del non voler forzare Sempre in nome Del non voler forzare Visto che A differenza Di quello che pensano Gli altri C'è un tizio Che ha scritto I soldi Sono più importanti Della Blind Perché c'era Uno sponsor segreto Che mi ha costretto A inventare Un modo Di far appassionare Di più Saido Agli eventi del gioco Capito Tu pensa Cosa Come se Sta gente Di mattina Si veste Si vestono La mattina Riescono Cioè Hanno la capacità Di mettersi le maniche E poi vanno A consumare Le risorse Che dovrebbero essere utili A far sopravvivere Alla specie superiore Del pianeta Però Se Saido Mi chiederà Il Consiglio Se mi chiederà L'indizio Artificiale Che gli ho promesso Io gli ho promesso Un consiglio Se lo vuole Per trovare Josefka Piuttosto Non andremo Al cinema Col finale Se fa tutti e tre I finali New game Piuttosto Io non Basta Ci sta Non ne vale la pena Li ha trovati tutti Io preferisco La sua esperienza È più importante Di ogni altra cosa Più importante Di voi Lo è sempre L'esperienza Di Sara L'esperienza Di Francesco Nelle condivisioni Videoludiche È sempre più importante La condivisione Perché in teoria Al pubblico Deve poter piacere Deve potersi innamorare Della condivisione stessa Non del capriccio Di come l'avrebbero voluta Veder condivisa loro Questa per me È una missione Così come lo è La critica Videoludica Così come lo è Fare i lavori In un certo modo Così come lo è Fare le blind run Vere Da parte mia Sui canali Io Lavoro a missione Etica Bushido È così Sempre Esattamente come Saido Manda a fare in culo L'utente Per chi ha detto Stronzo Che hai perso tempo A parlare col tuo amico A un certo punto Si deve distinguere Chi lavora Per fare i numeri E si soggioga E sottomette E fa guidare Dal pubblico Nonostante a volte Deba essere educato E lo stesso E so stesso E chi invece È ferreo E ottiene Più o meno Seconda di quello Che vuole condividere Non è appunto Non è tutto In nome Della Anzi Si ottiene anche più rispetto Mostrando una certa Maturità Ma non credo Che lo chiederà Infatti Non credo Che lo chiederà Ma non credo Che Non riesplorerà La mappa Cinque volte Ok Se chiede l'indizio Gli faccio capire Esattamente Dove è lo shortcut E poi ci pensa lui E poi ci pensa lui Però il fatto è questo Ho veramente mal di stomaco Ho veramente mal di stomaco È incredibile È incredibile perché Fin dal momento Nel quale Si è cominciato A fare la prima live Al cinema Ho puntato al meglio In certe cose Salvo Qualche inciampo Due o tre Cosine Un po' imprecise È la miglior Vet mai fatta A livello di contenuti Che poi era Il patto narrativo Iniziale Che il finale Che gli avrei chiesto Di giocare In nome del personaggio Non era quello Che avrebbe fatto È la base Per permettergli Di vedere Entrambi i finali Senza che fosse un Uè ricarica Che era l'alternativa Vabbè Ma grazie Comunque Comunque Dello stupendo Roboante Reboante A seconda Della Treccani Supporto È stato meraviglioso Settimana prossima Mancherò per qualche giorno Per un impegno segretissimo NDA segreti Galera per sempre E Famiglia uccisa Ma Ci saranno live Molto fighe Vorrei fare anche L'extra di Bloodborne Ora che ho sbloccato I chalice Voglio fare L'extra di Bloodborne E parlarvi Del vero finale Di Xenia Ok Porterò Prince of Persia In una live Sì 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 La voglio provare Vorrei provare A fare una 12 ore Onestamente Per vedere Se magari Riusciamo a finirlo In una botta Non so Long to beat Come lo valuta Ma vediamo Ok Considerate Che se dopo Tanti anni Tanti anni Per la prima volta Dopo anni Ho interrotto Tutto ciò che stavo Assorbendo personalmente Chiudendo nel mio animo Per introdurne Un discorso in live È perché si è superato Ogni possibile Tutto per me Ed è difficile Che accadesse Quindi Perdonatemi Se ho reso Prolista l'ultima parte Alla fine Il finale Poteva essere la balia Avesse esplorato più lentamente Ma Ho fatto del mio meglio Ci aggiorniamo Ci aggiorniamo Ragazzi Buonanotte Preparatevi Che le prossime live Ci portano Verso La parte più bella La parte più bella Di Bloodborne Che è Proprio il DLC La seconda parte Di Di Old Hunters È veramente La più bella In assoluto La parte più bella La parte più bella